Qui si chiama Reveal ed è un gioco molto impegnativo da quello che si vede, dura un pochettino di più, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale perché a 40.000 follower su Kodomo Gaming vi farò il videotour dell'ufficio e fidatevi che ne vale la pena, da qua non si vede tutto, si vede una parte, potete vedere che è molto carino, quindi se vi piace l'idea di vederlo tutto mi raccomando iscrivetevi, fate iscrivere vostra nonna, vostra zia, vostra cugina, tutti quelli che conoscete, tutti quelli che mi conoscono come la posta di Sonia, mi raccomando iscrivetevi, commentate, interagite con il video Perché è importante, creando le interazioni, il video farà più views e quindi arriverà più persone, faremo più iscritti più velocemente, bla bla bla, ok? Iniziamo questo gioco grandioso, si chiama Reveal, ambientato in un lago, con delle cose che fluttuano e andiamo avanti, bello, un pagliaccio, non so dove sto andando, seguirò questi, suona leggermente male, male malino No, secondo me non è considerato per la... c'era un bellissimo uomo per carità, però, cioè, è oggettivamente anche molto bravo, quindi non penso che venga considerato solo per la bellezza Lo stai succedendo? È finito il gioco, ragazzi Considerate che è tipo ambientato in un circo È molto particolare questo giochetto, eh Molto particolare Sì, sì, è horror, ragazzi Mi scappa qua Allora, io direi che posso anche togliere l'arma, l'esto caso Vai, vado Ok Ok Buonasera, bellini di padellini Ragazzi di TikTok, mi raccomando, io vi aspetto Twitch in particolar modo Il live, vedete la live orizzontale Ah, vedete anche i sottotitoli Devo tenere questa emigraia sotto controllo Mi sa che devo prendere una pasticca Ok Buongiorno Buongiorno Dovrei prenderne un paio Ah This should do it Carepoint pharmacy Thompson Walter Ah, fra E che te devo dire? Ah, zoom Uno o due tablet Per bocca Per culo potrebbe essere un problema Heavy 4-6 hour Ok Madonna mia Che cojone Stasera 10.000 interruzioni Frate, veramente Una live senza senso Allora Grafica Abbiamo Che cosa abbiamo qui? Sottotitoli Do cazzo sta? Gioco Sovrapposizione Ah, perché stavano così Eh, guarda Rockwood 2 100% vi metto Guarda Oh, mo' vedete? Grazie, stai lì Ok, apri se ste pasticche Questo Chiedete le due pasticche Vorrei solo che avessimo il tempo e il denaro per viaggiare Pure io, frate Però va bene così Non è abbastanza Non si può più di così farlo Dico di Questo c'è un problema che i tabs, lo sa, eh Con i pasticchini, eh Ecco, raga Questa era letteralmente casa mia prima di trasferirmi Era così grande Mostra indizi Ando a cielo Prima leggevamo tanto insieme Vorrei che avessimo ancora il tempo per farlo Ma con chi? Esattamente Con chi? Ciao a tutti, eh Allora, il Corriere in giallo Edgar Polo Cosa ne penso del libro? Bell'arco narrativo A presto la loro relazione Difficoltà Mi sono sentita in mezzo Ma chi cazzo se ne frega? Direi no Questo che dà? Spettate di Marta e Dori Non abbiamo tempo per i matrimoni Eh, questo? Io inculiamo qualche gioiello Devo prima rimettere a posto la statuina Manca la statuina La troveremo C'è un peruccetto Caruccetto Carelello Non mi fa prendere nulla Ma che si è rotto un pezzo d'armadio? Andiamo bene Che è sto stronzo per terra? Ma pare il vomito del gatto Io puntualmente li trovo così E dove sarà questa bambolina? Era a sinistra la statuina? C'era l'oggetto Rimettemolo qua Bello, guardalo Ole Sì, sono nella nuova casa Nel nuovo ufficio, ragazzi Sì Ok, ok Mi piace che siano così semplici Gli enigmi Sempre io Non avevo questa bambola A mezzo centimetro da me Sempre io Che avete la camera da letto? Ah, ecco la chiave Perché era qui? Non lo so Se ce l'ha messa te, no? Non pensi? Hai aggiunto chiave nell'inventario Va bene Ma mia rega Io mi sto già pentita A aver portato sto gioco Perché sto gioco è veramente È matto un culo Mi la chiave da camera da letto? Che vuol dire? Questa è una porta Questa è una porta Eh, ma questa è una porta È una porta di casa, frate No? No Martha si è già occupata Di tutte le questioni del circo Lasciando a me tutto il resto Come al solito Vedi, è ambientata in un circo No, Debbie Non ho fatto il video Cioè, l'ho fatto Ma l'ho tolto Il video tour della casa In realtà E Dovrei cercare Martha e Dory Ok Ah, no Invece era questa Ciao, Sara Sono sua madre Eccoci qua Cos'è stato? Un terremoto? Forse nonno che scoreggia Non lo so Non sembra funzionare Dimmi che cosa Che cazzo funziona E non gioco horror mai Non lo so Confermo Però tu madre Tu sorella al massimo Tu madre Va bene che c'ho Dieci anni più Non lo so Quanti anni c'hai, Nervy? 24 24? Micca, se 24 Ci sono veramente Dieci più dei terzi O due 118 Nervy è giovane, sì Che va non è che gli so vecchi A pezzi di merda Ti spacca la faccia subito, eh Cosa c'ha? Cosa c'ha? È normale per lui? Vero, è venire Diggielo che sembra C'ha 25 anni Dai 24 anni Porco due Sì, mamma mia C'ho dieci anni più di te C'ho dieci anni più di te Frate Però madre no, dai Sorella Cazzo non è sua Cugina Ma madre no Non importa l'età Se fregno Grazie Sara Te voglio bene Grazie Questo è quello che volevo sentirmi dire Ciao Maximo Sì, oggi l'ho detto L'ho detto Mentre stavo a fare la cosa di Red Bull Effettivamente la gente non ci credeva Aumenta gli hertz del gioco Che frame lagga quando ti esposti Mentre che stasera va così Vabbè, se direttimo uguale No, perché cazzata Dimo sempre Ne dimostri Ne dimostri di meno L'importante è quello Solitamente sì Al massimo Me danno 30 anni Proprio va al massimo Però insomma 30, 34, 35 Stiamo là Allora Che devo fare quindi? Va bene sorella Meglio dai Se è meglio Che devo fare? Campovisi No Grafica forse 60 hertz Ah beh, ciao 120 al massimo Quindi Tutto questo Buongiorno Al giorno Dori e Marta Ma dove sono? Non lo sai te È un cavallino Dei chiodi Ok Ah perché Giustamente loro Sono tutti una famiglia Di un circo Capito? Infatti C'è no 25 Chi ha detto? 25 no? Avevo detto 25 Chi ha detto 35? Chi è stato? Che si è permesso Di me Avevamo detto 25 no? Avete capito male? Qualcuno che scherzava Qualcuno che scherzava 25 Nelton Bros Eh ma se questo è il circo Nuovo collezionabile Non me ne frega un cazzo Dei collezionabili Marta non si stanca mai Di questa canzone Io invece mi sono rotta Lì i coglioni Sotto Tito lato Ok 52 Non lo so Stacco Madonna Tutti quanti I peli del corpo Una a uno Anche questo non funziona Io dico ma Voglio dire ma Ma metta a posto Sta casa Questo non funziona Quello non so C'è ne Quello è rotto Marta e Dory Non ci stanno Vado giù Che vedevo dire Non so dove Forse Dory è nella sua stanza Ma ci interessa davvero Sapere dove è Dory Daniel's third date Questi pupazzetti Tipo che si portano Di tutta la infanzia Secondo me Sono mezzi indemoniati Sempre Mettono sempre Un po' d'ansia Comunque io Non ho capito Effettivamente Lo scopo di questa Di questo tour Della casa Quale sia Cioè mi sta Favvivi Disegni Bietti d'auguri Ma a me che cazzo Me ne frega Ma a me vai Ma a me dai una trama E mo fremlaga Ma perché sta a caricare Secondo me Dory Dei puzzercoli Perché questa musica Che è successo Salvataggio Salvataggio Dory Dory È una mappa Daddy solve the puzzle Ah lui è il padre Daddy risolve Papà risolve il puzzle Un libro Un clown Non dirò cosa Un cespuglio Con degli occhi Degli asini colorati Che saltano ostacolo Una cosa del tesoro Degli elefanti Trippini silvestri E la bussola Sopra in alto a sinistra Ho portato la telecamera Con Ma che è Ma che è sta roba Bababau Dalbuna Disegno di Dory È chiusa a chiave Devo cercare la chiave Perché la chiusa a chiave Ma non lo so Ma saranno anche Cazzi sua magari Credo che il suo scopo Sia quello di sembrare Inquietante Ma a me Devi mettere le palline Dentro Quali palline Frate Bisogna di metterci Una moneta Una moneta Una moneta Quale pallina Una moneta E mo io non c'ho una lira Non c'ho manco mai Monete per carello Figurate per Dory li adora Così io ne ho fatto uno Shane lo risolviamo dopo Perché se no Adesso mi devo interrompere Dal gioco Per spiegare Tutta sta cosa qua Aspetta un attimo Dopo Alla fine della live Magari ne parliamo Che c'è tempo per parlare Ecco la moneta Possiamo usarla Prendi Ok Language charts Ma che cazzo Madonna Odio questi giochi Viene delle cose Senza senso però Forse qui possiamo Se mettiamo una moneta Ma che madonna Devo fare E dove va La moneta Ok Ok Marica ma io C'è Ci vuole una laurea In ingegneria Spaziale Per far C'erano le palline Ma non me lo fa Me fa cliccare una sega Frate Ma perché C'erano le palline Ma non me fa cliccare Guarda So cliccare Ha fatto Togli questo Ma poi Mica Lo fa Nel cosa al centro Questi non mi fa cliccare nulla Allato a destra Certo zio pero eh Adesso c'è una leva Ah questa Eccola Ma guardate Ma devo muovere Qualcosa Non so De no eh Ma vedete Mi è venuta voglia Di quelle palline Gommose Che Così Rotonde Che ci sono Le macchinette Scusa mia Ma io in tutto ciò Che cazzo C'e devo fare Biglia Prendi Il mio colore Preferito Mi fa piacere Che cazzo Ce devo fa Ce devo fa Queste biglie Devo mettere dentro All'altro gioco All'altro gioco Qual'era Ah qua Ok I clean Senti frate Dove cazzo Devo mettere Sto coso Eccolo Grazie Sabi Grazie Te so Grazie mille Dai Entra Ah ok Aspetta Quindi che Devo fare No raga Non Non so Capace Eh Vabbè Pronti Ah Veramente Ah Deve andare Nel buco Finale Nel buco De cu No Ti scherzo Nel buco De cu Raga ma È anti Non è Non è normale Stavala No raga Stiamo qua Quarto d'ora Voi dico È vero Erbucio Perché vedi Se vado giù Va giù qua Ok No Però Non è facile Ragazzi Perché non c'è No raga Io non ce la faccio Ah ma Marghierina bella Grazie per i 10 saboni Su Grazie Grazie tesoro 10 saboni Zio Peroni Margheroni Grazie tesoro Grazie mille Piccola marghierina Grazie mille Ma raga Io qua Non Ah perché Se faccio così Vado piano eh Porco No raga Non ce la faccio Mi sto veramente Mi sto nervosendo Impossibile Impossibile Cazzo Impossibile Stiamo qua 10 anni Voi lo dico È troppo stretto Sto buco E poi non lo so C'è un tipo Un senso Sbagliato De Eh Ma raga Non ci riesco Ah Siete in posa È chiuso Mannaggia Ah ma io dei buchi Se sbaglio troppo Dici Vero Che pippa Porco zio Che pippa Che pippa Arsugo Guarda È che Non so Capace Questo Mi viene L'ansia Guarda Ok No No Ah 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 Un'oliva Non c'è Posso Crete No raga Vi giuro Mi fa Nervoso Atomico Nervoso Atomico Come sta Vabbè Alla fine Cioè O risolvo Solo perché Mi hai chiuso Tutti i buchi Fratello Ah Tutti i buchi Chiudi Ma perché Sbaglio Zio Pero Stai piano No No vabbè Zio Trenino Ma mi spieghi Per che cazzo Fa questo Questo lavoro TikTok Abbiamo Prendere Un canto Di attività Abbiamo Un canto Di attività Ma sto Facendo la live Che cazzo Di attività Devo fare Più di così Che attività Devo fare Che devo fare Le vasta Cosa Non so che è Sta novità Di TikTok Abbiamo Manca Abbiamo Trovato Una mancanza Di attività Sto facendo La live Che devo fare Ma perché Lo fa solo Con me Ma perché Mi sto così Sul cazzo A TikTok Io Nella vita Non capisco Guarda Guarda Questa È la forza Dalla rabbia La forza Dalla rabbia Dalla concett... Io Amore Ma si fa C'è un corpo Sta stanno Di il gatto C'è un corpo Perché faccio al contrario Di quello che cazzo devo fare Setti un po' Ma culo sto liva Santa c'è la Ho capito Cioè veramente Difficilo eh Questa percezione della realtà Come ho trovato? Un po' di plastica Ma che schifo Ma che è sto schifo E ha aggiunto denti di plastica all'inventario Che scemo da fa' Che ci fanno con i denti? Al clown? Quale clown? Questi? Ah vedi Devo prima aprirgli la bocca E pia le mani e apri la bocca Ah però ma no Vero Eh l'ho l'alli Undice e mezza solitamente stacco Stasera è undice e mezza tassativo Perché domani raga Mi devo svegliare prestissimo Che vengono a montarmi l'armadio E penso alle sette e mezza Mi devo svegliare Per cominciare a smaltire la 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 camera Che c'è tutte buste Scatolone Prova a prendere qualcosa Che piglio Che piglio Frang Posso pigliare Dovendo qualcosa per aprirgli la bocca Ma che cazzo gli posso pigliare Ah no è chiusa Quindi sta per forza qua dentro Perché è un sollievo in realtà Buonasera Desmond Desmond Buonasera Desmond E ho capito l'assativo Stavo per dire Stavo per dire No 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 Stasera l'assativo Tommagini No qui non c'è nessuna cosa Devo trovare una cosa per aprire la bocca a sto stronzo Ma che posso usare le mani C'è una matita Una leva o una si Eh no ho pensato chiaramente a una leva Però il problema è Quale leva? Levate Cioè Qualsiasi cosa potrebbe essere una leva Una squadra Non lo so Dentro al cassetto Questo gioco è un gioco horror Sì Ma è anche un gioco Sto a volare stasera Non so che cosa c'ho E c'era il riflesso del computer Il gioco sul computer Mi ha preso un infarto Non so perché Proprio a volare stasera Dico è un gioco horror Ma è un gioco horror Insomma con una trama Bella profonda Questo cassetto forse Non me lo fa aprire Grazie save Grazie mille tesoro Grazie bentornato Eh qua tipo Aspetta qua Oh che cazzo so sta roba No Aspetta mi sono persa qualcosa Mi sono persa due sub Che cos'è? No Stava a vex tre mesi Il ciclo è finito Sì Bello che è finito il ciclo Grazie Per aver chiesto Devo trovare una cosa Per fare Leva Con sto bagliaccio De ghiaccio Lo so Non ti piaccio Bagliaccio di ghiaccio Il cassetto Sto aprendo tutti i cassetti De Cristo Qua che devo aprire Il cassetto questo qua L'ho aperto Quindi così Così si apre Non l'ho aperto Del mobile Ma questo qua Ma questo non me lo fa Aprire Frate Ehm Quella sinistra Ma questi Ti sto aprendo Ti sto aprendo Li ho aperti Già No questo non l'avevo aperto Ma comunque Non c'è una sega dentro Ciao Arienni Devo trovare una leva Per aprire la bocca Del pagliaccio Regà Mi sto a cervella Ma non trovo una sega Costumi Niente È un cappello Eh sì Il cappello Ha un lucchetto È vero Questo Vaffanculo Un altro collezionabile Il diario è qua Non si può aprire Perché c'ho la chiave Pure qua La scrivania Ha dei cassetti Il clown Dietro al clown C'ha una leva Ah Ma vattene Affanculo Ma regà Ma regà Zio vero Posso dire zio vero Posso dire zio vero Perché non sono ancora Entrata nel meccanismo Che posso ruotare Le cose Vabbè Oh mio dio Questo è tipo Il coccodrillo Il mercato Lo porto in settimana Raga Non stasera Oh Io queste cose Manco dal vivo Le faccio Mi fanno l'ansia Mi fanno veramente ansia Io ho capito Quindi Va Finito il gioco Ah no Che giraffa Minchia Un po' più difficile La poteva Che cazzo Ce stanno I sordi Devo spaccio Qua dentro Memorizzati Che deve nascondere La signorina Che esco C'è star di aria Da avete Sette anni Il padre E madre Penso Il circo Vedi il padre Che costruisce le cose Il circo La giraffa La macchinina Gli animali Bello il circo Gli animali Eh Vi piazza In grandissimo corpo Magari Pizzica il buco Il culo Attenzione La mamma Litica col papà E la figlia Si sente brutta Il circo Va A rodoli La figlia Vuole tagliarsi Le vene Tutto brutto Tutto brutto Bad Un occhio Un occhio rosso I primi traumi Wow Che succede Deve essere un altro sogno A me più velocemente Scatta con shift Vicino al lago Proprio vicino al circo Dori Sei tu? Che schifo Fanno schifo Le mosche Sweetie È una libellula quella Tesoro Sciocchina Come parla la madre? Non dire queste stupitaggini Walter La spaventirai Dori Dori Che cazzo Stai a fare qua? Dori 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 Eccola Aspetta Dori Non correre così A papà Per favore Dori Alla ricerca di Dori Dori era il pesce Quello rincoglionito De 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 Nemo De Nemo Comunque Mi sono resa conto Che scatta Quando sta caricando Quello che succede dopo Quello è il treno su cui viaggiavamo Ormai il circo si è stabilito qui Allora Con il circo io ho un odio e tamo Non so a voi come la prendete Mi piacciono moltissimo I colori e le trame Queste sanrieghe Però Non mi piacciono i cerchi I cerchi Con gli animali Li odio E per di più Ci hanno Non so che De inquietante Parlamose chiaro Ci hanno Non so che De inquietante Queste famiglie Itineranti Che lavorano nel circo Non sono famiglie Tradizionali Sono famiglie un po' strane Quindi mi mettono Un po' di malinconia Non lo so Poi è certa Una questione di abitudine Chiaramente E mi hanno passato I secoli Dall'ultima volta Non so come fai Chi ha A fare cosa Mi fanno un po' paura E guardare mucche Mi sono persa A jumpscare Ma non mi è senso Mi pare così jumpscare Eh Mi pare così jumpscare Non so Manco ho sentito Un Un rumore Che cazzo E jumpscare è Ma come si Ma dove Vabbè Comunque Non riusciremo a prendermi Perché guarda Che lo sai che Se te prendono Deve corco Comunque no Tradizionale Non intendo Nel senso Nel senso Che comunque Non hai C'è sempre Itineranti Comunque C'è come se non avessi Una casa Fissa Il nascondito Di tori Ma vaffangulo Si rompe sempre Qualsiasi cosa Io faccia Ma chi te vuole Ma chi te vuole via Lasciamola andare via Che si può andare qua Ma chi ti vuole fuori casa Sì Stamattina comunque Mi sono svegliata presto Se vedete che sbadiglio Svegliata presto Che dovevo andare a fare L'attività Con la Red Bull Sembra che sia Per essere ristrutturato Marta e Dori Vedi Facevano uno show Mesa con la madre Martello per picchiare Dori No Si scherze Si scherze Oh mea Deo Oh mea Deo E qui che Marta si prepara Per lo spettacolo Comunque apprezzo il tentativo Cioè il fatto che ci siano Dei sottotitoli in italiano Non tutti i giochi ce l'hanno Per questo vi dico che È un gioco un po' più importante Il mio banco è da lavoro Si vedeva nel libro di Dori Che il padre Realizzava le cose La mano c'era il spettacolo Cerca di recuperare un po' di compiti Ma non riesce mai a concentrarsi Troppo a lungo Credo La porti in giro col circo Frate Chi direi ogni bambino Ma queste sono le cose Della moglie Non penso ci sia qualcosa Di interessante Sì Damsel Lo so che è uscito Damsel Su Netflix Regà Ma lo voglio vedere Quello Sembra che non abbia corrente Eccoci qua Rimbocchiamoci le maniche Signori Gommina Secondo me è successo qualcosa È successo qualcosa valese Comunque ve lo consiglio Vi consiglio anche io Di vedere A parte la serie di Rocco Su Netflix The Spaceman Lo sto guardando Ve fa volare Ve fa volare Non so se ve lo siete Già iniziate a vedere Bello Vi è piaciuto Spaceman Devo finire di vederlo A parte che si manca Il 6 Grazie Riccardo Credo che sia La solita solfa E infatti Ne manca uno Però Me lo fa fare Non mi dà neanche L'opportunità Di inserirci qualcosa 1 4 No Borghi tanta roba Sì Tantissima 1 4 7 3 1 4 7 2 1 4 7 2 Ok 3 Mannaggia la mignotta Oh ne riesce mai uno buono 1 Ciao Devil Ciao a tutti belli 4 7 Oddio qual'era? Jan Muff Tyrus In che senso sta qua? Era 2? Scusate ragazzi Sono ricoglioni da stecca stasera Sarà che L'eufuria Ti fa la live Per il nuovo ufficio Giro 5 3 Ok Got it Oddio un attimo Ho sentito tipo chiara? Quella è Il jet lag De Casanova Che devo fare Col signore Qua Qua Stavo qua Oddio ma Tu chi sei Cyrus? Mi sono persa Mi perdo i nomi Perché? Descriviti Descriviti Zì Dare un getto Oh il gettone Eh che te pare Servono sempre i sordi In la vita Non c'è niente da fa' A chi nedor? Il foglietto sotto? Il foglietto sotto? No no il foglietto sotto ok Ma servono le monete Nella cassetta sopra il tavolo fuori Grazie Stefi Grazie Emillini Nella cassetta Sopra il tavolo fuori C'è sta Le monete Forse è qua vicino Tipo vicino alla macchina Alla cassa Tipo Minchiazzina Ma è tutto un enigma Qua frate Ah non è vero Ah sono amico di niente Conosce già Ma fa ok 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 Ma posso allora Madonna qua è tutto un enigma Dove letteralmente Premere un pulsante Vabbè Passa Torniamo dentro Andiamo a mettere la moneta Oggi è così raga Oggi è così Sono distratta Zohan Ti è grato per il tuo dono Vedi che hai perso qualcosa Se vuoi trovarlo Devi cercarlo Ci avevo pensato Un lungo viaggio in auto Sulla collina Ti sarà sicuramente Quando arriverai Tutte le porte si apriranno Oh wow That's really helpful Zohan Ah A genius Questo gioco si chiama Reveil Un'auto Sua collina Cadi dal cielo Come un capo O prima una sigaretta It's mine It's mine Another car lezionabile Oh A sto punto Platinamos A sto gioco Si non so Allora Il gioco parla Di una storia Di una famiglia Che fa il circo Ma a quanto pare Da quello che si E vince Mi sa che la madre e il padre Litigavano Hanno qualche problema La figlia ne ha risentito E sta passando un momento di merda Non capisco in quale modo Non capisco cosa sta facendo Però c'è qualcosa a che fare Con la figlia Lui sta rincorrendo la figlia Che non riesce a trovarla Si scappa Non so che cosa succede però Il biglietto Zio P No C'è la migno Andammo a pia Lo biglietto Carta della fortuna Forse chiude a crederci Vabbè Era un collezionabile Li vale 20 euro sto gioco Beh io ho appena iniziato Però Sembra Un bel gioco Dove il market simulator Ragazzi Dove assolutamente seguire Dory Perfetto Lo facciamo in settimana Scusate Tanto non mi fa andare Ma era qua sta cazzo Ah Ecco dove andava Il token No vada Te prego Cioè te prego Te prego Aiutami Eh cioè Aiutami Perché Un short token Perché un short token Quello a sinistra Che stramadonna è Scorro mille Sì ma che ce devo mettere Eh ma non mi fa prema niente Mi fa prema un cazzo Forse devo girare Considerando come Ok Ok Ma cosa devo fare Ok ho capito Ho capito Ho capito c'ho la moto Ok Devo guidare Da sinistra Perfetto Perfetto Dritto va bene Perfetto Ok Anche perché mi sa che non ci stanno troppe monede Ah Tocca sta attenti Eh frate Concentrated Guardiamo qua Guardiamo qua No ma perché Allora in serie di Wolf Zio Pera Sto giocando Io quanti cazzo De occhi devo avere Per leggere due chat Il gioco Cercare di andare avanti Abbiate pazienza Fratelli miei Io devo avere Cioè Se è così O leggo voi O gioco Già sto giocando De merda Perché sono successe Mille cose Che devo fare io ragazzi Quante monete c'ho Ma perché Ma io non è vero Che avevo sfannato il muro L'ho fatto bene Ma infinite Eh devo star concentrata qua Perché sennò veramente Stiamo qua 10 anni Ok dritta Qua è abbastanza facile Però Devo star attenta Perché se mi muovo male Cioè se mi muovo troppo In fretta Cioè Se mi sposto troppo In fretta La moto Vedi che mi piace Lo sto attenta Vieni da star nudino Non ora No ora Mi stanno a crociare All'occhio All'occhio frate Yes Easy Easy eh Certo me sto a buttare All'occhio Sto a buttare Domani non andavo Oculista Dove andare Vabbè Ok Ok Vabbè Vabbè però ce l'ho No Volevo vedere Fin dove Potevo arrivare Va bene Ok Vado via Io Devo prendere i coin Ma dove stanno i coin? Ah eccoli E che token? Ah token Ok Ah ti puoi arzare Adesso frate Oh maia Finalmente Sto a prendere Sto cazzo token E' tutto così Difficile In questo gioco Come mai? Come mai? Non vedevo L'ora di entrare Guarda Ah Proprio bello Mo' si eh Si stanno a trecciare All'occhio Cazzo Eccoci qua No no Non gioco Serio In generale Arigà A me basta Che non mi rincorrono Non mi inseguono E devo scappare Oh Dory Always drags me Through here I think she just Really likes to scare me Mi piace spaventarti Ah Che è? Che è? Ah ma perché stanno Ste cazzo Di piattaforme Ma fate Se ne affanculo Ma per poco Non mi ingoiamo La mo La 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 gomma Ok Ok Sicuro Sicuro Sì infatti Sì infatti Sì infatti bello Pure il giocatore Si è preso Il cagotto Stesso urlo Abbiamo fatto Salvataggio Non mi piace Quando salva Frate Ma No Dory Enough playing around Dory No No Dory Dammi L'ancori No Una figlia Hai Bye La lady Un occhio Pin doctor Quando carica la roba Raga Fri in laga Come un pezzo De merda Sto gioco Basta Dai questi jumpscare Così futili Cioè Ma stai Vi l'ho ringraziata Per la sub Manco mi ricordo Frate Ma siamo a 91 sub Raga Un superone Dai Muori Ma muori te Ma che cazzo voi Mi ha venuto in mente Una cosa Di un commento Dory I'm serious That's enough Mi ha venuto In mente Un commento Su Instagram E mi hanno lasciato Su una clip Che è andata virale Quella del loop Di Exitate Sto caricando anche Su Instagram Alcune C'è un tizio E mi ha scritto Ma che cazzo Urla questa Io ho scritto Ma che cazzo voi E questo Mi ha scritto Ma che cazzo Vuoi tu Tipo Cioè ma Cioè ti viene Sotto Ai miei foto Ai miei video A guardare Roba mia Mi rompe il cazzo E io manco posso Manco posso Rispondere Ma che cazzo Sto afforgorata Nel cervello Eppure un po' Nel buco del culo Secondo me Ma che cazzo Vuoi tu Ma che cazzo Vuoi tu Ma mi stai a scrivere A me Sui commenti miei Ma che cazzo Vuoi tu Scusa Ma c'è Sto afforgorata Veramente Fuori Fuori di testa Non lo so Non ho visto Neanche se Mi ha risposto Ma certo Mi ha preso Pure a ride Perché cioè Che devi fare Ti viene da ride Dove è andata Ma che ne so Oddio Che è sta cosa Questa visione ottica Wait where did I go Oddio Stana sta roba Oddio In dove cazzo Sto Ma qua Oddio sta roba Mi fa veramente Tocca pinnar commento Di che Oh frate No zio Quei labirinti Non ce la faccio Voi lo dico Non me fate Non me fate Please wait Dory Dory Ti giuro Ti ho tanti Dei quei Dei quei pugni Quando te vedo Guarda Dory Le faccio passare La voglia di labirinti Guarda Mia cara Dory Un treno Dory's treno Queste sono le Dory Oh rincorriamo il ride estreno Treno Treno Fine 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 I'll play along Where are we going next Guarda mo eh Guarda mo Jump scherone Ho jump scherone No Devo inseguirlo La frate Ma mi sta più a per culo Sto treno Ma che davorio Oh c'è una porta Ciao Nico Grazie Nico Grazie Ah posso prenderlo Comunque no Soddisfatta Non soddisfatta Nel senso che Avrei potuto fare Molto meglio Secondo me Però non ho avuto Molto tempo Per Per farlo Neanche Neanche i giusti mezzi Probabilmente Però vabbè Ho fatto quello che potevo fare Insomma Per i mezzi che avevo Che carina questa parte Gli akitori c'è scritto qua È molto figo questo percorso Sì Cos'è un ascensore Sto coso? Grazie Nico C'è un ascensore Non so che cosa Ho pigiato Perché ha pigiato Senza Cioè Sì Ha stanzato gli specchi Terribile Ciao Saritta Grazie La posizione diversa In realtà è da poco Che mi sono trasferita Oh ma che è sta roba Le fiamme Stiamo andando all'inferno Pazzesco Incredibile Chinatown No Già No frate A buono Queste Cazzo Sono ste tipe Minchia Indica Mamma mia Le amiche Dei non No ma se ne da qua Che questi Sono tutti Un po' Rincogioniti C'era una volta una giovane Che si innamorò Di una donna In un luogo Molto speciale Ma si aprono tutte Ste porta Questa è chiusa Ma sto beccato Veramente L'unica porta A se apri E apri questa Che culo Così a caso No Non voglio andare avanti C'era una volta Beh Basta è finita la storia Voglio sapere come va a finire Devo tornare là Sembra la storia di Marta e me O sbaglio Non lo so Zia Sai te Perché nessuno te conosce Sincere Siamo di nuovo là Sposarono e poco dopo Nacque la loro figlia Una bambina sana Che divenne tutta La loro vita Dory Eccoci qua Dory Nel senso ha questa storia Perché parla della nostra famiglia Se vogliamo scoprirlo tutto Sinceramente Tutti Trascendo seguì felice Le orme della madre Eppure la loro strada Non era priva di ostacoli I soldi non bastavano mai E il tempo che i tre Potevano passare insieme Era sempre meno E così La strada Intrapresa Li condusse Li condusse Dal zio treno E Allora Sembra carino il gioco È lento È ingranare Non è proprio Velocissimo Però sembra molto carino Molto interessante Sembra fatto veramente È un gioco Non è una stronzata Capito Giocatini Così È un gioco Dovrebbe durare anche un bel po' Ma Lazareth invece È giocato Al fine Riscendo seguì felice Le orme della madre Eppure L'ostrata Ah no Stiamo ritornando Forse ho sbagliato qualcosa Dovevo prendere un'altra porta Vediamo che cosa dice E così La strada intrapresa Li condusse a un'inevitabile fine Inevitabile? Inevitabile? Non è tutto sto gioco Pesante eh Mamma mia Da morire Però in realtà Lo scopri alla fine Che non è Il grande gioco Che ti aspetti che sia Ci sono più finali Infatti Mo vado da un'altra parte Ci dà un po' di vibes Di Visage Vabbè Ah vedi C'è io sono andata qua prima Possiamo andare qua C'è io sono andata Ma scusa ho preso la faccia felice Prima quella triste E mo prendo quest'altra Eh lo so Ah Scendiamo un po' Sto d'ugurio No Va a ingranare Il gioco Regà Questo è solo l'inizio E' molto un crescendo Come gioco Vabbè Vabbè Ma rimeremo? Me l'ha presa per cura Ma sta ragazzina Vende tante di quelle pizza Appena la pio Guarda Ti sono certi Sganassoni a due a due Porco due Oddio Ma che è? Che c'è sta? Oh non mi riesco a fermare Oh no 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 Mi sono fatta pure male la mano Vabbè 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 Oddio mio Sto sprofondando Sto diventando a cacca mo Bello snipero Buonanotte caro Buonanotte Buonanotte Ecco i specchi Qualcuno diceva Ancora sono gli specchi Eccosi qua i specchi Il segreto è guarda per terra Il segreto è merda Però il segreto è guarda per terra Per terra si vede quali sono quelli Boh Andiamo dove ci porta il cuore Quindi è un posto di merda Sbagliato Perfetto Ok Torniamo indietro Andiamo on the other side Di qua Ragazzi è di merda Madonna Ma pure questo? Chi è che bussa? Vabbè ma c'è pace C'è pace Pure qua è rotto Adori Mamma mia Ridi ridi finché puoi Goditi la vita finché puoi A papà Quando papà te prende poi Oh niente È finito Un lupo Vabbè Ah Dori Via ci via qua Pezza di merda Vieni qua Stronza di una ragazzina gallina D'è nata Sta maledetta Oh no Tutto rosso no Tutto rosso no Oddio mio No vabbè Non ci posso vedere Di nuovo qua Stronza Non l'hai fatto Vabbè No Ma sono uscita Ho capito che donna De qua Ma se è tutto Rotto Che cazzo vado Ciao Caneg Ma faccio diventa Ancora più rossa È intrigante sto gio Che mi guardano Questi pezzi di merda Che cazzo volete Strambo sto gioco Stramboide Sì Leti Esatto Vorrei arrivare a un punto Un checkpoint Ah ok Noi siamo normali Oh Cazzo sta succedendo Dove ho qualche fobia A scappare Perché ne ha fatti i compiti Sta bastarda La mappa C'erano disegnati Gli occhi sul muro È vero Hai ragione Al saldo Bravo Ottima M Scusa Ma che cazzo Ma che è S'importunenza FB D'Equitalia Sì La fobia Si La fobia Dalla commercialista Che Ad agosto Settare Ma Hai reso conto Dei tasse da pagare Ecco Quella è la mia fobia Più grande Papà Hai visto Quanto ero in alto Volavo come un supereroe Grazie Tu padre Che te facevo La dance Il barcone Comunque Classica storia Di traumi Dei bambini Genitori pentiti Perché hanno fatto Cappellate Insomma Niente di non visto Ecco Però è intrigante Come è strutturato Il gioco Stiamo andando a ritroso Ora Devo allenarmi con mamma Ci vediamo stasera Salvataggio Ok Qua c'è un checkpoint No 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 Cazzo Che trip La morte Il grande zona Vedi che non hai trovato Ciò che stai cercando Mai lo farai Perché questo Non è il tuo futuro Ma se non è il tuo futuro Che stai cercando Forse il sentiero D'innanzi a te Potrebbe condurti Al tuo passato È vero Lo seguirai Anche se dovesse Vai a cercare La verità Deve essere un sogno Non ci capisco nulla Zohan Zohgran Ah tiktok Eh oddio Può essere Non ho cambiato Non ho cambiato La descrizione Su tiktok Può essere Tanto non la legge nessuno La descrizione Mi tocca Mi fa male l'occhio Sta roba Per favore fammi svegliare E niente La bambina Di questa famiglia È scomparsa Non la trova più E più o meno Ci sta raccontando Appunto che La figlia Insomma Non sta bene Cioè Probabilmente sta soffrendo Il fatto che i genitori Non vanno d'accordo In qualche modo Cosa cazzo devo fare In tutto ciò io qua E quindi niente È un po' Un percorso del padre Che cerca la figlia E mano a mano Insomma ci fa scoprire Qualcosa della trama Messa a far male La testa comunque Ci fa scoprire qualcosa Della trama E della figlia Cercandola E così via Mi stanno facendo male Gli occhi Della verità Ok andiamo giù Gioco sembra essere interessante Buonasera ragazzi Di TikTok Buonasera a tutti Va fastidio agli occhi Vero? Volevo te Cercavo solo te Grazie Franci Grazie mille tesoro Grazie infinite Per la sabona Sei mesoni Grazie grazie Sto rosso Mi fa male agli occhi Davvero Oh La cabina di Dottor Who Oh Ma che d'è Spero che finisca presto Oh Caricamento Ma vedi la pittura Dava più fastidio L'hotel di Iè Ma non è vero Ma rieccoci Qua nata vo Brutto incubo Devo prendere qualcosa Per le migranie Di nuovo È un loop Abbiamo iniziato così Il gioco Ah sì È che le pasticche Brate Ma so queste Ste pasticche Volevo te Volevo Solo te E E Io non capisco Perché Non mi deve Fa Prende Il cassetto E mezzo Non mi fa Prende il cassetto Volevi vicino Alla lampada No Non mi fa Prendere niente Una sega Proprio Niente Non stavo cercando Tori No Stavo solo sognando Ah sì Con Confezione di pillole Stiamo facendo le valigie C'è qualcosa Che non si sa Qualcosa Che si Si scoprirà Mano a mano What the fuck È rosso Così normale Nelson Bross Biglietto del circo Prima mi ha fatto Stiamo rifacendo Quello che abbiamo fatto Prima Manca la statuina Era qua la statuina Prima però Non c'è più Adesso Stiamo rifacendo No ma non è una live lunga Che semplicemente giochiamo A questo gioco qua Per tutta la sera Perché bisogna andare avanti Per finirlo Perché altrimenti Essendo un gioco lungo Se no non lo finimmo mai Stava lì no Stava lì la bambolina All'inizio Ora non c'è più Perché è tutto rosso C'era la bambolina Qua all'inizio La mettevo qua Subito Tac Fatto Sì va finito ragazzi Perché se no come fai Con il video su youtube È maciello Poi eh Fratello Questo poi è uscito Recentemente no fra No ma non penso che Eccola la bambolina Perché è qui Infatti dice All'inizio Non era Non era qua Era del là Quindi Sta ricominciando Ma è strano Perché è diverso Let's see if the key is in here È uscito il 7 marzo Vedi Ecco la chiave Nella zona d'ombra Non si vede un cazzo Top Camera da letto Aristamo qua E quindi Noi adesso usciamo E rifacciamo la parte Che ore sono Dovrei vedere Come stanno Marta E Dory Lui mi sembra un po' sconnesso Come se non si ricordi Quello che è successo E mi sa che è successa Una cosa brutta Mi sa che lui è depresso È depresso Si sta prendendo Le psicofarmaci E Perché mi sa che Si è lasciato con la moglie La figlia O chi ne so Su Steam Si Su Steam Guarda là che delirio Ma come campa questo Buttite vino ovunque Pillole ovunque La sensazione è strana Quando Marta Non mette la sua musica Ma mi sa che Marta Si t'ha accannato Se n'è nata Con la piccola Marta e Dory Ma io dove sono Il gioco si chiama Reveal Ed è un gioco nuovo Che ho iniziato a portare Da Scorsa settimana Questa settimana Non mi ricordo Manco più Bello Questo Tieni libri Fantastico Ma per niente inquietante Buonasera Alessandro Ciao Buonasera a tutti Belli di Badeli Non c'è mai lui Nelle foto Per facci caso Chissà che cazzarola succede Che cosa è successo Anche Si devo dire La grafica Non è affatto male Non è affatto male Probabilmente Dory Starà dormendo E di nuovo Ritorniamo giù Perché abbiamo già fatto Questa roba qua È come tipo Fosse un loop Però cambiano delle cose Mi sa che ogni È chiusa Dory Se queste sono le cose loro C'era bisogno della chiave Per andare Dov'era la chiave Mod di questo Manco mi ricordo più Ancora chiusa Certo se ne apre È difficile S'apre da sola Ho letto Che dove legge Spazzolina Non mi dice Dove sta la chiave Questo dove legge Ma non c'è niente Interessante C'è un biglietto Di auguri Di invito Al party Che me serve Sta roba Questo cazzo Stava la chiave Di questa cosa Che hai Perché sei impanicato La parete è strana Qui c'era una parete prima Ora non c'è più Salvataggio Cazzo Sta porta Mi sa che era Che era chiusa prima Non mi piace Quello che sta per succedere Mi sa Marta è la moglie Dory è la No buono Mi sa Ah Le moltissime bottiglie vuote Marta e io Beviamo solamente Nelle occasioni speciali Ma questo Do cazzo casca D'arpero Cioè Ma in casa tua O in casa di qualcuna Ma non è la camera di Marta Cosa è successo Al nostro bagno Vedi È tutto diverso È tutto lurido Fa stick Beer Alcol e droga Alcol e droga È chiuso La fuck Credo di aver visto Le mie pile Le galleggiare Dopo che non c'è un problema Prenderele ugualmente Fraticiate De unto È una palestra Che ci fosse Qualche cazzo De salma Là sotto Si vedeva Da sotto C'erano i capellini Si vedeva Però dico Vabbè È così tranquillo Che non lo vede Evidentemente È nella mia testa È nella mia testa E invece Invece no Invece c'era Coglione Eh 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 Ma noi siamo saliti prima Era Dory Daccelancori Dory Daccelancori Prevedibile Abbastanza però Le scale Apri 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 Martha Sei qui Mamma mia Uno dei suoi tarocchi Il folle Lo avrà lasciato qui Per farmelo trovare Che cazzo C'è fa Scusa Ma questo è un teschio De quale Uccello Uccello preistorico Che cazzo Uccello così grosso Che sei Gabbiano Che è Bella la camera Ma poi scusate Questi stanno insieme E A moglie c'è la camera sua A ragazzina la camera sua E il padre la camera sua Che vuol dire Magari è Ah la camera dove lavora Che ne so C'è troppa luce Non si vede quasi niente Do cazzo vivi Porco due Vicino al sole Cazzo Mi piace sta storia qua Questo che ha Mi piace questo Gattino Altri tarocchi Tra l'altro C'hanno il logo Del gioco Reveal Che sta fa Una seduta spiritica Ma che è sta roba Quello è un occhio vero Mi sta guardando Eccoci qua Che sta succedendo Dove sono Ma che c'è qua dentro Un brugo Che ha Non posso muovermi Ho questa sensazione Che mi manchi qualcosa Vabbè devo Palesemente devo mettere Devo mettere qualcosa Su sto tavolo Dovrò trovare degli oggetti Aspetta Un pizzello Sembra Effettivamente Grazie tesoro Grazie mille per la sabina Bello Tutto bello Ma Non c'è Cazzo nessuno Qui dentro Possiamo andare su pure Eh zio P Non è buono questo Sì Il soffitto E che è La faccenda Si sta facendo Sì è proprio assurda Mi fa ridere Che lui Cioè sia completamente tranquillo La faccenda Si sta facendo Non capito Non è normale Che sta già I pianti sui pareti Dei casa Cioè è bello L'effetto Però Devo un bocca qua dentro Mi sa bene Oh mio dio Per sotto Sobra E' speculare Tipo E' a specchio Scusa Sorry Chi cazzo Era qua A barbona Qua sotto Scusa No scusami Che cazzo Devo fare Con questo cadavro Con questo Con questo Questa mummia Cosa cazzo Dovrei fare Io con questa roba Ah riga Ma mi ammazza Frate Ma ammazza Porte Ma che cazzo Sei serio Ma perdonami Ma perdonami un attimo Ma io dove devo andare Ma dove va Ma mi pare Il video di Michael Jackson Thriller E' a Trailer 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 No He's gonna Want a La Ba Da Ba Da Sendo Trailer Ammortaci tu Ed è quella vacca De tu moglie in zombie fai Ammortaci tu Ma quanto devo sta qui Detra sta casa che puzza del culo Oh dai però Dove devo andare? Dove devo andare io? Ma dove va la salma? Dove va la salma? Dove cazzo va? No 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 Ma che giro fa la signora? Ma che giro fa questa? Ma se ne va poi una certa Scusami un attimo eh Ma come faccio io ad andare di là? Ha la porta dove entrare? Ma la signorina mi vede me sa eh Corri corri che Marta is dead Marta is dead Mo' entra qua sore Mo' entra qua frate sicuro Guardala Guarda come entra Guarda come entra Eh ciao Ciao amore tutto bene? Hai dormito bene stanotte? Ma non mi ha visto? Ma dove cazzo ce l'ha all'occhio? Nel culo questa Ma dove fa? Come ha fatto a non vedermi? Ma come ha fatto a non vedermi? Ma per quale cazzo di motivo non mi vede? Ma scusami Ma in che senso? È bendata? È bendata? Ma davvero? Non mi vede quindi? Mi sento solo i rumori? Comunque Prima o poi dovremmo fare un gioco Con la cassa attiva Dove Se sente i rumori Mi prende Inseguila Ma che fa? Te sei in culo Manco è da morta Frate Zero Come sta a fare i trick E sta pezza Che cazzo Che cosa fai? Amore Si è buggata la signorina Ma frate Ma che cazzo è? De la sto vas Ma non ce la fa Sì Aspetta un attimo dai Basta Basta Mi sta bene l'ansia Su basta Pialo Pialo Vabbè frate Ma così non è Non è fattibile Solo questo? Basta Posso andarmene? Grissimbon 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 Oggi porta in tavola La novità Basta Ho fatto Me ne posso andare? Talgo dal cazzo? Me ne vado eh? Ciao amore Ciao amore A mai più rivederci Debian corpo Oh è tutto quello che potevo prendere? No ho preso Cioè nel senso che ce devo fare? Ah vaffanculo stasarma Eh Grissimbon ormai si Però scusa vabbè Palese dovremmo mettere qua Dovremmo mettere qua qualcosa no? Eccoci qua Oddio Che da Tante volte devo dirtelo Walter Non disturbarmi mentre dipingo Parleremo più tardi Sì Quando dipingeva Era nel suo mondo Era difficile avvicinarsi a lei È successo qualcosa Probabilmente devo fare qualcos'altro Anko? Ah zio pe Zio pe Grazie felicitici Ciao be Ciao Peter Grazie mille per i quattro mesi È il tuo compleanno Tandagur Atua Tandagur Atua Ma che devo fare? Devo ritornare dalla stronza? No non ci vado Che devo fare? Ah devo dare la visione Dici? Aspettate Visionami Visionami tutta Dobbiamo andare da là Dobbiamo rientrare Lo sai sì Lo sai sì Sicuro Dobbiamo tornare dalla stronzona Dobbiamo tornare Santo cielo Santo cielo Ora Ora devo canna L'appiardito Monco Ma che subito Così mi fa partire Oh Ma che sa Le scale La stronza No? Sì Linux Penso di sì Ma quanto cazzo Ce mette? Ma che è Mo qua? Che schifo Zio P Ma che cazzo è? Coso è? Van Gogh Zio Treno Dai Su Ma levati proprio Levati Ma mo che è Sta 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 Etera qua Comunque non sto a capire Che cos'è che non stai a capire? Dimmi È tutto Molto Abbastanza chiaro Diventa più difficile È chiaro È chiaro 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 Vabbè Però finché non ci vede Sti cazzi Cioè No? Manca l'ultima cosa Zio Non adesso Walter Dobbiamo prepararci Per lo spettacolo Non ci metteremo certo A discutere davanti a lei Di cosa volevo parlare? Ecco la stanza è cambiata di nuovo Devo trovare l'ultima Dai 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 che ci sei in chiappetta questa Ma non è che Allora non è che Nei giochi horror Regà Oddio Ok Tavola Col pennello Qua ci sei in chiappetta Vabbè Quindi qua ci sei in chiappetta Perché adesso ci sta l'edere Come cazzo si chiama quella roba E toccherà andare dietro Adesso Adesso sarà difficile Adesso sarà difficile Adesso sarà veramente difficile E Niente vabbè Chiaramente Nei giochi Oddio ma che è diventato È diventato rosso pure qua frate Ma che sei matto Un culo Dicevo Chiaramente nei giochi È tutto Un po' Cioè rappresenta Una situazione Non è che è una cosa reale Lui sta facendo Un percorso Psichico Chissà Sta drogato Sta sognando Una roba onirica Che ne so È tutto un Ripercorrere Chiaramente La relazione Con la moglie Del perché Se sono Vanno sicuramente lasciati E è successo qualcosa E quindi Sta vivendo tutto Una Questo percorso Che lo sta facendo Arrivare Alla risposta Che sta cercando Perché La casa è tutta diversa Perché la figlia è sparita La moglie è sparita Dove stanno E sta rifacendo Tutto il percorso Al ritroso Per capire Tutto quello che è successo Quindi lo stiamo capendo Insieme Non vedi che Questa sale pure Le scale Frate Perché mi ammazzo Siamo pronti Ma che sale Le scale La stronza Ti prego Dimmi te no Dicite Dicite si Ma rega Mo è tosta Per cui Guarda l'etere Come si fa No rega Qua diventa tosta Ma diventa Tostarella La situazione Allora La signorina Simpaticissima La troviamo Dove qua dietro Noi dobbiamo Andare Lì Dobbiamo arrivare Lì giù Come si chiama Edera Come cazzo Edera Edera Boh Allora La signorina fantastica Meravigliosa Non ci vede Non ci vede Giusto Cioè Non vede Cerchiamo di capire Che cazzo De percorso Fa Sta Sguscia Funghi Non vedo Un cazzo Con sta luce Ma chi l'ha Messa sta luce Ma dov'è la signorina Me la so persa Signorina Eccola Eh ma qua è tosta Un culo però Ma come si fa Bisognerebbe capire Che Vabbè Senti Famo una cosa Ma aspettiamo Che viene qua E poi andiamo Dietro A sta stronza Dove starà La sguscia Funghi Ma mi vede Dici Ma mi vede Mi vede o mi sente Mi sento o mi vede E io spero Che torni indietro La sguscia Funghi Perché Aspetta Zio P che Si è incazzata Si è ingarellata Perché ha sentito Sguscia Funghi Aspetta Ed è nata La stronza Signorina Eh boh Capito Però frate Io devo Da una certa Devo anche Boh Andare Mo' Venete qua Allora Il discorso qual è È che finché Siamo lontani Lei non ci sente Ma quando siamo vicini Fa la puttana Capito Fa la puttanella Fa la puttanelletta Fa la puttanelletta E mi va a fare Lo scherzettino E niente Azzì Allora Ma ti metti come cazzo Faccio Mazzà è tosta Però eh Trova uno spiraglio Cioè È tostissimo E che cazzo Vuoi lasciare qua Ma Come mai Cioè Proprio quando io vado lì Questa stronza Mi fa Mi fa le cafonate Grazie Giorgione Porco Zio Vedi Quando sto troppo vicina Ho capito Ma come faccio Io vado dietro dietro Che devo fa' La faccio allontanare Dici Eh ma That's Martha's tarot deck Corri 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 Let's go 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 Via Scappa Da questa pazza Da questa pazza Mamma mia Oh Cristo Fatta una affanculo Ma mi ritrovo qua dentro Sta stronza Oddio mio Dammi tutto Dai Rituale invisibile Non se ne parla Deve Dory continuerà a esibirsi con me Non capisci che questo è il suo futuro Do riuscirei a cambiare le cose Credo che li diciamo a proposito del futuro di Dory nel circo Ma Marta non voleva darmi ascolto Mi sentivo impotente Vedi Ho fatto qualcosa Questo è stato C'è questo Che cosa è questa roba Che cosa è sta merda ora Abbiamo finito C'è tutta sta cosa solamente per farmi Delle piantine Ok Bello Fantastico E i quadri I bei quadri Veramente Fantastici Davvero Guarda l'occhio Ma basta Non devo più far nulla Torno indietro Ciao Alper Ciao Piro Come è te che guarda Posso andare Ma c'è treno Perché Vabbè Era scriptato Spero Ha ricominciato Maronna Ciao Che diavolo sta succedendo Questo folle sogno È Vito finalmente Non credo Sì Ti stai a risvegliare ogni 5 secondi Quindi no Non credo proprio che tu Possa Considerarlo terminato Salvataggio Davvero Che sta per succedere Ma poi guarda La ballerina è già posizionata Cambia ogni volta Neanche un Grissinbone Grissinbone Il laga su Twitch Eh Delle volte sai Può fare un po' lo stronzo Twitch Ciao Lady È giunto la chiave Va bene E allora Ritorniamo qui Chissà cosa succederà Di nuovo la stessa cosa Sto sognando Sto ancora sognando Devo cercare di capire Quindi probabilmente Adesso ci farà andare In un'altra stanza O no Succedeva in quel sogno Qual era il problema Tra me e Marta Non dovevamo essere Una coppia felice Perché aveva Quell'aspetto La casa comincia A riempirsi Di cose strane Fateci caso Qua era È rossa Eh lo vedi Che qua Non c'era Sta parete Dove è la stanza Dirà Ah la stanza Di Marta Cosa cazzo Che non va Eh sì Te prete droghi E bevi troppo Dici che è morta No Dici che è morta Non credo Ma che è sta canzone Da 50 sfumatori De grigio Non ho capito Che c'entra Mo Ho cambiato qualcosa Non c'è più Della roba Salvataggio Oh Grazie Michele Stegni di graffi Graffi Sì ma io non ricomincio A fare Non è qui che dovrebbe Trovarsi la cucina È mai qui che si trova Effettivamente Ciao Chanel Miria È qui che Oh questa è la Unione di Ikea Frate Totale lui Ed eccoci qua Di nuovo Con questo Puzza De cucina Putrefatta Medicinali Birre Alcol Vino Va da là Una lampadina Una lampadina Questo è quello che Dory mi aiuta con il lavoro Parti collezionabili Inutile Non c'è cibo nel frigo Ma c'è dell'altro Oh c'è una chiave Frate Chiave di garage Sembra un po' la casa Di super normal Pure io ci ho pensato Effettivamente Sembra un po' Lei Chiudi che si scongela Tutto qua frate Scusate c'è un disturbo Lavo sempre i piatti Non può essere La nostra cucina Cioè lui Mi casca un po' D'arpero Mi casca un po' D'arpero E non capisco perché Cioè Non capisco come mai Lui non si renda Conto di un cazzo Mi sembra un po' Strano Abbiamo preso comunque La chiave del garage Ok Animaletti Perché loro Lavorando in uno zoo Chiaramente c'hanno Gli animali No? I stronzi Aggiungere L'ho ordinato io Mi piace questo locale Ma non ricordo Ciao Shiroi Come mai vi blocca la live Ma ragazzi Non è un problema mio Però perché mi dice Fotogrammi persi zero Quindi Non so se a Twitch C'è il problema Sì Circo Scusate Me sto sbagliata Circo Tim e Twitch Dici? Comunque Regà Tim C'ha C'ha un sacco De problemi C'ha un sacco De problemi Tim Con le piattaforme In generale C'è Veramente Imbarazzante Come mai? Marta non aveva il cibo Da sporto E la pizza In particolare Ma scusami Che cazzo Ce stai a fare Con Marta Se è una che non Si mangia la pizza Non è una persona normale C'è Questo è il primo sentore Voglio dire Scemo tu Eh ma Fasso Ebbene Non arrivava Veloce qua Ok Sta cafonata Te prego Ok Sta cafonata Il mio laboratorio Cosa si fa Qua su Comunque regà Mi sa Che sono venuti Ad abitare Sotto Al quarto piano Io so al quinto Io ho già visto Una coppia Che veniva Sotto Cioè Che Prendeva l'ascensore E si fermava Al quarto piano Che si vedeva da sotto Sono due ragazzi Giovani Ragazzi Il problema Non è questo No Nessuno ha mai detto Un cazzo Per ora E Il problema È che sono io Che dico qualcosa Non so se sono loro O se c'è qualcuno Io sento C'ero costantemente L'ho sentito anche ora Un trapano Qualcuno che Trapana Che fa lavori Dentro casa Considera tipo Sabato e domenica Anche alle tre Di pomeriggio Che sono rari Che teoricamente Non dovresti fare casino No Non è una metafora È un trapano Che stanno facendo lavori Non capisco chi è però Non capisco se sono Visti sotto O sempre Secondo me è sotto Non è sotto Non so se stanno Sotto da me O dall'altra parte Fatto stasi Veramente A qualsiasi ora Si sente un trapano A qualsiasi ora E giuro Grazie Che carino Piro No Non dovrebbe essere Cioè Non dovrebbero Dire nulla Però vi giuro Raga C'è costantemente Lavori Ma agli orari Più assurdi C'è roba strana Però vabbè Non è che mi danno Fastidio Tranne la domenica Mattina Insomma Sabato mattina Sabato mattina Era A me sembra Un po' eccessivo Esatto E lì No vabbè Non penso Che svolgolamento Dei coglioni Non mi ricordo La combinazione Ma dimmi Che cazzo Ti ricordi Come ti chiami Ti ricordi O manco quello Ecco i simboli Va No Vediamo quali so Eh ma Come faccio A sapere quali so Che deve essere Qualcosa Un manichino Un oggetto scenico Molto versatene Nel circo Ci sono solo Le gambe Sta dicendo Allora Ok Bisogna trovare Tutti i pezzi In sto manichino Qualcosa mi dice che Qualcosa Mi dice che Non finirà bene That's torso That's torso Ma scusami Ma in inglese Dice torso Ho capito bene Una mano Di operino Manca un altro Pezzo del braccio O sbaglio Oddio che è Mio dio Madonna santa Una corda Zio P Ci va Ok E fitta La mano pure Che è mosso da sole Sta appuntando qualcosa Zio P Ero pure qua Ma sto laser Mi uccide Marta Cosa dovrebbe essere Tell me about this Looks like a cipher She's She's Sterian Numbers The other day Ciao Che cazzo è sta roba Maronna Sandu Mi sto scrofando A tutti Si tuca Io non sto capendo niente Alle 16 Lo staccano E le accendono Ai 23 Ma è capito Questi Raga Sto a rota Sto a rotissima Proprio Grazie Grazie Ci doi Grazie Che la sabona Come cazzo faccio Io a capire Non è così No è solo complicato Ma prima trovo i pezzi E poi guarda il foglio Sul tavolo Accanto alla cassa Da aprire E questo ho fatto I tre segni sotto Si No ma scusa Ma mica sono questi I segni che dobbiamo mettere O si E non so questi Frate Sono altri Sono completamente diversi Vedi Non so questi qua Non corrispondono I pezzi Sono altri Minchia Sono quelli sui muri Vedi questi qua Così E come faccio a capire Corrispondono a tre letteri Vediamo Quali lettere? Si No Nessuna lettera So Due tre quattro Io una nove Fino a nove E Però poi Sono dei numeri Non delle lettere Riga due Riga tre Guarda però Sopra c'è la riga uno E ok Riga uno Riga due Riga tre Ma non capisco come Come li devo associare Poi a casascio Prima un po' Mendovini Mi sembra un'ottima idea Rapanavano i cinesi Eh beh Ah tab Marte mi ha parlato Di quei numeri Cistercensi L'altro giorno Strani simboli Sulla pagina di destra Niente Non sto a capire Vedi che la verità Non sto a capire Ci sono questi simboli Che Allora Cioè questo Questo qua Il primo simbolo È un omino Che sta in ginocchio Dico Ma io non vedo niente Di questi simboli Che possa essere simile Quindi non è questo Non lo so Come faccio a saperlo Non so capire Avete capito Ma sono un mix Delle tre È esatto Facci caso Guarda È vero 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 Hai ragione Per esempio La prima figura È palesemente il 2 V No No Non è il 2 No Aspetta Attenzione No è diverso Ora che ci faccio caso Meglio Cazzo Eh ho capito 2 più un altro numero Ma anche se fosse Una media 2 e 3 Che ci faccio Per questo 2 e 3 3 1 No Non è 1 3 4 2 La prima figura È 3 4 2 Giusto 3 4 1 No 2 Attenzione Guarda il 2 Il primo 2 Della prima fila Grazie Renz L'1 Ragazzi Non va bene Perché La manina a destra Mi sembrano meno Sta troppo sotto Quella sta sopra 619 Grazie mille per la Sabina Renz Bentornato Eh però Che ci faccio Con questo 342 Ma poi come L'ordine quale sarebbe Cioè da dove si parte Dalla riga sinistra Da quella a destra Da quella in mezzo Eh ma Che ci faccio Con questi numeri Nel manichino Eh ma La cassa Non mi dà i numeri Mi dà i simboli Ah Ah Ora è più chiaro 2 4 1 3 4 1 Scusa mia Difficile eh Cab Eh Nuova lampadina Per la luce Del parco C'è Riparare La Larganello Affune Nuova zampa Per il cavallo Della giostra Dipingere La porca Eccoli Scusami Non saranno Questi codici Solo 4 codici Scusami Solo 4 codici Sono 3 A posto Come hai non detto Fratello Sorello Allora 1 Ecco qua Esatto 2 4 Guardate me Mi continuate a dire 2 Non c'è niente del 2 Questo è Ah non dici Questa parte qui piccolina Dici che è questo O è questo Mi pare più questo a me Grazie per i 90 bits Grazie a Chiaretta Per i 10 mesoni Grazie tesoro Devi guardare la prima riga Ok Quello che c'è nella prima riga Quindi Ah 2 Avete ragione Cioè avete ragione Scusami 2 E poi 4 2 4 E 1 2 4 1 2 4 1 Quindi Sì 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 Trovato Il problema è Ora Cosa caccio Ce faccio Questo 2 4 1 Allora qui mi sta Indicando un simbolo Poi il marechino Ha il polso E la spalla da girare Ah oh merda Ah già Ok fermi 2 2 Ok 4 Ok 1 Sì Sì brate Sì fratello Primo codice Primo codice Scrivi 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 tutto Fratello Alpeppa Fai una penna Prata Ok Me lo segno qua Me lo segno qua Aspetta Non c'è una cosa più piccola Che cazzo Allora Me li segno Perché è difficile Da sti cazzo Dei segnetti Da fare Ok Bene Primo 2 4 1 Ok Bene Andiamo sul secondo simbolo Ora Il secondo simbolo Partiamo dalla prima riga Nessuno E ma dall'altra parte Ah no 4 4 1 4 4 1 4 Vero? 4 1 4 Quindi 4 1 4 4 4 Sì Sì frate Sì Eccolo lì Il simbolo satanico De Tumà Ok Ce l'avemo Ah mi sono persa la pagina vabbè Bene Si tolga manichina per favore Terza fila Ok c'è terzo simbolo Terzo simbolo abbiamo Due Tre Due tre Cinque Due tre cinque Due tre cinque Ok Due Tre E cinque E l'ultimo fratello Proprio così zi Fammi vedere che hai puntato Ma che d'è sta testa di corvo Vedami dove cazzo Ecco Bene 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 Ci abbiamo tutti e tre i simboli Certamente fino alle undici e mezza Sonia Poi dipende quello che c'ho da fare ma Certamente undici Bene Andiamo a inserire questi stragazzi di simboli Vediamo un po' che cosa succede Raggiungeremo qualche scopo Qualche scopo Allora Il libro delle diavolerie Eccolo uno Abbiamo una specie di triangolino No Sembra questo in realtà No questo E poi c'è quello con la T Ciao Simoni Grazie Che abbiamo trovato? Ah una spada Un oggetto di scena Che porterai a casa Che portai a casa Al che anno fa L'ho modificato aggiungendo un compartimento Sieto Lì dentro Smontiamolo sul tavolo E smontiamo sta caponata Cazzo te lo dico Spadanare occhia Diamo un'occhiata Devo solo girare l'Elsa E dovrebbe venire via E tira via Nelson Bros Contratto Dory Thompson Circo sette anni Un contratto alla figlia Che gli hanno fatto Quaranta ore settimanali Si assume tutti i rischi Di rispettare Di sicurezza Che sei schifoso contatto E mai questo Perché non me lo ricordo Come diavolo C'è finita la mia firma Qui sopra Non avrei mai firmato Nulla del genere Marta non posso vedere Che abbia fatto Una cosa del genere Questo lo viderà Completamente Il resto Dell'infanzia di Dory Nelson Bros Circus Questo contratto Obbliga Dory Thompson Rappresentata Qui Dai suoi legali Genitori Praticamente Di performare Per il circo Fino All'età Di 16 anni C'è un contratto Obbligativo Per una bambina Di 7 anni E che non si può fare Perché è illegale Termini e condizioni Dory deve Sarà sotto contratto Con il circo Per un periodo Di 7 anni Beginning on the date Iniziato dalla data Della firma Questo contratto Sarà legalmente Enforced in un accord Of law Vabbè roba di legge During this time Dory will be Durante questo tempo Dory dovrà performare Nel circo Lavorare nel circo Per show eventi Determinati dal direttore Del circo Queste include anche Giornate full Cioè complete Prima di ogni show E allenamento Sessioni di allenamento Che ammontano A circa 40 ore Settimanali 40 ore settimanali C'è una cosa Uno sfruttamento Però non capisco Che cazzo sarebbe Ma che diavolo Un treno? Un treno? Quattaff... Comunque è un trip Sto gioco Sai che bella Comunque l'ambientazione È veramente figa L'ambientazione È fatta veramente bene Devo dire Zio trano Siamo proprio Giusti giusti Per dire Zio trano Un treno zio Come gli attori bambini Ah sì Oh no Ah hai capito Lady Ok Qualcosa mi dice Che non sarà bella Questa parte Con questi manichini De merda Un vecchio treno Un vecchio vagone Wow È fatto veramente bene Questo gioco Grazie Andrea Zoli Grazie piccione Full HD Grazie mille Ah è il treno Del circo Lo conosco Questo odore Casa Igaro Grazie piccolini Grazie per il supporto A volte Viutavo a dare da mangiare Emma adorava le mele Che cazzo è Emma Ma che cazzo Il nostro vecchio elefante Un animale dolcissimo Ma il circo Non era il posto adatto Per lei E vedi in poi Un animale Il circo Stava in una savana Zio treno Stava dentro C'è una vacca sul treno Poverino Tu sorella Qua la tumba Palle Canto dovrebbero esserci Vagoni letto Mi piacciono i treni Forse da adesso Non mi piaceranno più In realtà Oh Harry Potter Zio P Harry Potter Ah io ho la cabina del clown Grande Perfetto Ah no Dory C'hai capito Questi viaggiavano nel treno Avevano le cabine Customizzate Con i nomini Ma roba da pozz Ma roba da pozz La cabina del clown Qui dormivano Rodri Il clown E il nostro mago A me si chiamavano Mi sono mai piaciuti i maghi Incasinano la testa Assurdo cazzo Assurdo Anche a me mi sono mai piaciuti i clown No i maghi Maghi si I clown no Ma chi è che sta a squillare Che c'è l'iPhone Se qualcuno si ha lasciato il telefono Boh Boh Vado Vado Non c'è più niente Mi sembra Comunque vabbò Chi è che dormiva qua È il domatore D'animali Che cazzo ne so C'è Capisco che Medesimarsi nel lavoro Ma Cristo questo dorme Che se le t'entra La cabina Mi sembra un po' eccessivo No Uccelle Animali E piume Oh vabbè La camera di Dory Qual era il nostro Questo era Quello era il nostro vagone Ma solitamente Passavo le notti in laboratorio Ovviamente questo non faceva bene Alla nostra relazione Ehi Lana Cosa stai facendo Ah Par 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 Picking Speed Cosme Sto già rotta lì i coglioni Questa era la camera di Dory Dace le ancori E Ancora con stedera Ma che è stedera Perché Nulla 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 Vabbè Andiamo Non si apre questa E E' chiusa Oh zio Lascia la chiusa E c'è stata sta matta Un vagoneta Ah no Invece Ciao Wati Benvenuti Vuoto Il circo cominciò a perdere pubblico Molto tempo fa Eh Probabilmente Ecco perché non convenne più Tenere il treno E il circo si stabilì Definitivamente in un posto E compramo una casa Che non potevamo permetterci Perché c'è questo inquietante Manichino qui Eh la storia del fallimento De sto circo probabilmente E poi ci sta bene Perché c'avevi degli animali Ma che è Le cascate d'elefante Di sotto Che era il suo amore Era il vagone salotto Passare del tempo qui Rendeva le nostre giornate Più sopportabili Comunque assurdo Cioè Andavano un treno Tutto l'oro Figo però Un po' così Che cos'è Il treno di Demon Slayer Ah è passato Un treno a fianco Minchia Che cazzo aveva visto Era davvero difficile Giocare con tutti Gli scossoni del treno Così installai Un piatto di metallo E dei piccoli magneti Per i pezzi A genius A fucking genius Proprio A ripensarci Il tempo passava qui Stato qui non fu male Peccato che il circo Non ci sia più Un attimo Ma che sto dicendo Io lavoro ancora qui E Marta e Dorito Continuano a tenere Il loro spettacolo Semplicemente Non siamo più itineranti Giusto Non lo so Quante ore di gioco sono Raga Lui non ha ancora Capito un cazzo Mi pare Quattro erano No Un attimo Ma ho girato Da qualche parte Sono di nuovo Nel mio laboratorio Ma questo ancora Non ha capito Un cazzo Ma è possibile Again Again Ziupe 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 Ma stai a scherzare Frate Mi stai veramente A scherzare Mi stai Credo che tu Mi stia scherzando Qui Appattana Ma io pensavo Che Dove potrebbe essere Dove potrebbe essere Ma che stragazzo Ne so Io frate Dove è stragazzo Sta la leva Ziupe Ma dove torna dietro Frate Il vagone Dove cazzo Dovrebbe sta Ziupe Comunque Dove dovrebbe sta Sta stragazzo De leva Dove sta Io mi butto Di sotto Frate De apri Di operone Oh merda Questa cosa Non era qui Prima Dove sta Fatta Naffanculo Va E salvami No pezzo De merda Salvami Now I have to pull the lever to the right side Grazie Martina Grazie per il bribe Grazie Ciao Alexone Buonanotte Ma che sta pazzo Un culo Ma batte Naffanculo Sto manichino Infernale Ok e ora come faccio A scendere dal treno Buttate di sotto De pace De testo Mamma mia Ricano che ansia Sta roba Mamma mia Eh fanno paura Sti giochi Teniamo questa parte E ci facciamo un po' di Supermarket Così allentiamo un po' Che dite Ti piace idea Non ho nient'altro da dire Walter Credo di essere stata chiara Che c'è che non va nella mia testa Che succede Aspetta Che succede Che succede Cosa chiara Che aveva detto Cazzo Mi sono persa Dio Ma che è Madre del dio Io spero che Mo finisca St'agonia Salvataggio Ha salvato comunque Non mi importa cosa pensi Puoi andartene Non abbiamo bisogno di te Lei non ha bisogno di te Grazie mini Robby Grazie mille Ho dato supermarket Eh perché sto gioco È un po' pesantino Ci sto capendo più niente Guarda che sicuro Lui ha sbroccato Ha sbroccato E non si ricorda più un cazzo Ma ha sbroccato E la moglie Devo liberare Dory Dalle sue grinfie Ma cioè ma davvero Ma quindi era lo zio Quello che ha fatto il contratto Ma è terribile Ah frate Non mi fa Veramente Madonna Sempre più storto Sto treno Mamma mouse Sta caricando qualcosa Ha fatto uno scattino Da caricamento Siamo fottuti Sì vabbè frate Ma così io Cioè sto per vomitare Zio Davvero Sto per vomitare Basta Mamma mia ma che cos'è Fractured mind Rotametro Che abbiamo giocato Lui ha ammazzato la figlia No dai Non credo Come ha ammazzato La figlia No Non penso che abbia fatto Una cosa così grave Mi piacciono questi giochi In tripponi così Mezzi Psicologici La moglie Luziana Ha ammazzato lui Addirittura così Ma com'è Siete così aggristi Cioè Pensate che abbia ammazzato Qualcuno Qualcosa Qualcun altro Ma no Lo ci aspetta Salvataggio La sala motori Tutta storia Sala motori Bad storia Nel mondo cazzo passo Io qua Scusatemi Dovrei annar Che cazzo devo fare qua Ma dovrò fare qualcosa In questo posto La mamma ha fatto fuori La figlia Ma secondo me Non è così drammatica La situa Sembra spenta E fredda Ora non più Che sta succedendo Non lo so Ma che fa sempre Un momento all'altro Posso allentare la pressione In qualche modo Ah beh Un enigma sotto pressione Ma che abbia funzionato Ok Questi color orologini Devo Ah no Worst No 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 Aspetta Non esplodere Aspetta Ho toccato Le manovolini Oh sì Ti l'ho fatta Ragazzi stava Sta per esplodere tutto Ah 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 Non sono Ce ne sia uno di qua ancora Oh shit Penso di aver fallito Penso di aver fallito Il coso Ma che era? Ma ho fallito o no? Non capisco. Che stracazzo è? Troppo per un fallimento. Ti c'era fatta apposta? Eh, mi sembra un po' strano. Oh, 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 un po' sono più passato, io bene. Lo stracazzo devo andare. Persa, fratello. Oh. Allora, io vengo da qua. Ok, vengo da qua. Dove c'erano le lavatrici? Sicuro. Open, mi sembrava qua, effettivamente. Ah, là dietro. Che cosa cazzo è questa storia? Poi io vado? Telephone, again. Behind you. Dietro di te. Perché me devi far girare e far... Che cazzo è il trip è? Che cazzo è il trip è? Questo è il capitolo 3. Bene. In pochi secondi trama grazia. Che cazzo sei? Il mio prof all'esame dei, 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 dei cazzi? Esmeralda Crystal Seed. Una favola. Questo è il circo. Ah. Martha's rehearsing tonight. Andiamo un po'? Manca un'altra ora? Ho un buon sentimento qui. E veramente mi mette dell'ansia quando mi fa queste richieste. Trama grazia e cinque secondi prego. A lei signorena. Vedremo se si merita un sei sul registro oppure no. Mamma mia, ho che ansia cazzo. Allora, allora, comunque sì, vi faccio una piccola intro del gioco. Mi sa che cosa deve vedere nel mio futuro. Ancora c'è sta questo che... Ok. È figo perché in realtà va ritroso un po' in tutta la sua vita. E quindi ci ha fatto vedere che all'inizio il circo aveva un treno proprio per loro. Tutto un treno per loro. Dove ogni cabina del treno era dedicata a una stanza. Cioè, era una stanza dedicata a una delle persone che lavoravano nel circo. Quindi c'era la stanza del pagliaccio, la stanza del mago, la stanza della figlia, della moglie. Insomma, tutte stanze diverse. Quindi andava tutto bene, capito? Per far capire che c'erano i sordi. Come ha fatto ad ammalarsi proprio adesso? E' andata di nuovo al lago con questo freddo? Vedi, sono tutti frammenti di conversazioni che lui aveva con la moglie che ti fanno capire che comunque loro non andavano più d'accordo. Non andavano più d'accordo perché non erano d'accordo su alcune cose riguardo la figlia, probabilmente. Se non faccio cosa, Tori, non vedo altro modo. Perché non riesco a vedere un altro modo di fare cose? Vedi, non ti fa capire che è successo. Che vuol dire non riesci a vedere un altro modo? Cioè, delle volte sembra che sia morto qualcuno. Che la figlia sia morta. Che la moglie sia morta. Deve volte sembra che sia morto lui. Non si capisce, non si capisce un cazzo. All'inizio lui rincorreva la figlia in questo parco. Comunque vi stavo dicendo del treno. Poi a un certo punto, fa vedere camminando al loop un po' anche in questo treno, che a mano a mano hanno dovuto rinunciare ad avere questo treno e a stabilirsi in un punto specifico. Cavillone, grazie mille per la sub regalina. Grazie tesoro. Mancano solo 11 sub al goal giornaliere di oggi. Di cinquantoni. Quindi se avete la possibilità di fare l'abbonamento e la voglia soprattutto di fare l'abbonamento con Prime, ricordatevi che potete abbonarvi gratuitamente. E' tutto così surreale. Vedi? E' diverso. Cioè sono dei frammenti di storia, di luoghi che lui ha vissuto, ma messi disposti in modo strano. No, regà, io non ce la faccio. E Valeriona! Iela mollona, Valeriona, con i cinque sabboni. Grazie tesoro mio. Grazie baby, ti abbraccio forte. Grazie mille. I fricitti. Grazie per i cinquabbonamentoni. Su! Ah, restiamo di nuovo dove eravamo andati prima. Salvataggio, credo che sia da questa parte. The Night Big Show. Marta e Dori, vedi? Marta e Dori sono la moglie e la figlia. Dori e la figlia. Wait, the world famous mother and daughter in a series of more difficult aerial feats. Quindi sì, sono ufficialmente quelle che fanno le cose aeree, capito? Le giravorte aerei. Le giravorte aeroplane. Grazie Vittoriella, grazie mille tesoro. Grazie infinite baby. Bentornata. 14 mesoni. Master of escape alive. Vabbè, un vero e proprio circo. Se mi chiede in pezzo, stia colpendo duro. Close. Non posso andare da qualche parte, fratello, sorello? Scavarca, mamma mia. Scavarca, fratello. No, rega, io non ce l'ho. Qua non ce l'ho. Mary J, Sganowelly. Super Sganowelly. Grazie mille. E chiudiamo questo cerchio anche oggi. Grazie a queste bomberone e questi bomberoni. Grazie infinite. Piccola Mary J, Sganowey. Grazie mille tesoro per questi cinque abbonamentoni. Non posso andare manco di qua. Zio P. Grazie Luca Gotto. Grazie per la Dier One. Mannaggia le mignò. Che pazzo fa? Non me ce fa qua? Non me ce fa na. Oh, qua sì però. No, non era un freak show. Era proprio un vero e proprio circo. C'erano tutti quei ruoli classici del circo. Senza strambezze. Normale. Ho paura solo di una cosa. Che qui ci sono dei manichini. E TikTok è strano. Perché quando vedete i manichini pensa che ci sia un nudo. Un nudino. Quindi non so se staccare TikTok per evitare ban Robby. Oppure no. Allora ragazzi per sicurezza per evitare ban io vi droppo la live di TikTok ma vi aspetto su Twitch. Quindi chiaramente se volete fino alle undici e mezza quindi ancora più di un'ora siamo su Twitch. Mi cercate e mi trovate come Codomo con la K C-O-D-O Codo No comodo, colomo, sgrobomo Codomo Mi raccomando eh perché se sbagliano sempre un sacco E mi trovate live lì. L'app è gratuita potete scaricarla se volete scrivere dovete farvi l'account perché se no non vi fa scrivere e vi aspetto on the other side perché se no me bannano qua regalo conosco già TikTok se vede una sagoma che sembra nudo me banna Ciao baby Aspetta mi sono dimenticata di dire ciao Ludo me ne arriva Non godo Grazie TikTok per aver seguito vi aspetto vi aspetto su Twitch Togli la condivisione per un attimo? No 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 regalo non mi fate si intrallazzi Venite su Twitch ragazzi ci sono due live attive Che ve costa? Cazzo E che dè? Non ve costa niente raga Ma che cos'è? Ma che cos'era questo rumore? Si capisce? Si TikTok è un po' stranino E vi aspetto su Twitch belli Vi aspetto Ciao Bellini Codomo mi raccomando eh Ciao ciao un po' da TikTok Grandesi Una donazione? No Lo so Ciao Bellini Vi aspetto su TikTok su Twitch Twitchione Twitch Eh ma della donazione ma io non la vedo avete visto qualcosa? Luchetto come nome della sub Ah Luchetto è vero aspetta forse lo vedo da qua aspettate un secondo eh Luca Gotto Luchetto o Luca Gotto? Luca Gotto Non vedo niente però raga No e allora la sub Hai fatto la sub Luca? Mi sembrava un rumore strano c'era la donazione E allora la sub di Luca era la sub di Luca No no io non ho fatto nessuna sub Come Luca Ma come Luca? Sono scritto un abbonamento di livello 1 Grazie Ferru per i 50 grazie mille Sì Dust quella di prima la carico domani sera Boh Non lo so Vabbè Anyway Andiamo avanti E Non è la prima volta che mi banano le live su TikTok Oh merda Vedi i manichini? Quindi Vedi tutta sta roba qua TikTok me la rivela me la rileva come una nudo Lo so perché l'hanno già fatto C'è nessuno? Questo gioco è infamello eh rega Beh pensate Gioco è infamello Oh E vedi? C'è sta roba qua su TikTok ero già bannata Il TikTok non riesce a distinguere un manichino da un corpo vero o un nudo di un certo tipo E l'algoritmo in automatico te banna tutto E che dè? Ciao Romi Sì comunque posso dire che hanno abbastanza cagato il cazzo questi manichini C'è Boh Corio te stai a fracicà Dory e Marta Marta deve essere ancora qui The Amazing South Eh perché che sto facendo perché la moglie mi sa che era asiatica L'ho cancellato Comunque vi posso dire che a me il circo non è mai piaciuto Non so a voi ma a me il circo non è mai cazzo piaciuto mancando ero piccola Mi metteva Cioè era un po' un c'era un qualcosa che mi attirava ma non era riconducibile e paragonabile a un piacere Forse perché mi è sempre piaciuto l'horror e quindi questa cosa questa sensazione di creepy mi dava boh Devo sbrigarmi Grazie mille Franceschina e Isabella Grazie tesore mie Grazie mille Devo sbrigarmi ma c'è stata la rete se casca al massimo se sloca la caviglia non lo so Quassù c'è l'attrazione Ah ha donato un euro ok Luca mi ha fatto il mio corpo dico Dio ma Luca si è sbagliato eccoci qua Questi dovrebbero riuscire a tagliare le funi Ma che vuole fare ammazzare la moglie scusami zi non è così che funziona perdonami cosa devi tagliare che devi tagliare a sto coglione ma che c'è devo andare giù non capisco che devo fare se c'era no e non mi fa fa e non mi fa scende qui pure non mi fa fa quella è la moglie è la moglie eccola così a caso ma improvvisamente me lo dà perché lo sto facendo non ti permetterò di portarmi mia figlia lo vedi cazzo a merda c'era pure dori sopra è veramente in coglione ciao vale è possibile è possibile è possibile che sia stato lui ad ucciderle entrambi allora allora mettendo insieme tutti quanti i pezzi si può ricostruire la storia adesso ricordo cosa ho fatto ho ucciso dori vedi ciao spitni ma perché non ho assolutamente senso ma perché non ha assolutamente senso ok poi doveva esserci un altro modo simonina grazie per i tre mesi grazie tesoro non ho potuto credere che questo potesse aiutarti e ora devo trovare un modo per uscire di qui è una torcia elettrica ok allora nel capitolo del treno ci hanno fatto vedere a un certo punto che c'era un come si dice un contratto lui trova un contratto dove c'era scritto che c'era dori la figlia sotto contratto del circo un contratto un po' si un po' di sfruttamento in realtà cos'è questo sembra che ci ho messo qualcosa eccoci qua di nuovo perfetto grande vedevo l'ora guarda devi fare queste cazzate e sembrava un contratto appunto dove veniva sfruttata la figlia quindi non vorrei che magari lui non volesse che la figlia facesse appunto la la trapezista la quello che cazzo si chiama e ci saranno magari dei disguidi sotto sto punto di vista non saprei dovrei fare attenzione oh shit oh oh mio dio oh mio dio oh mio dio a tre campane che fa mi è un armostriciattolo eh lo so che me l'ha detto ma non pensavo di andarli addosso ho calcolato male lo spazio boh non so minimamente dove cazzo sto andando posso dire porco zio che cazzo era ma che cos'è questa roba così dispersiva perdonami non fa che insenso proprio ma non ha senso non mi fa neanche prendere sta roba abbiamo un sasso indiavolato no ma cioè è mega dispersivo regà non capisco non capisco che cosa cazzo devo cercare ma soprattutto dove cioè se io volessi potrei andare fino laggiù ma che stiamo a scherzare ma che dè e come cazzo lo trovo un ufficio ok ma non ero adatto all'opero d'ufficio ok tre sfere ottimo buona buona sapersi peccato che mi perdo in cinque secondi mi ha ridato un occhio ma va e le cazze cammanelle e ciaone delle stanze cro io che è laggiù regà io provo ad entrare qua la stazione di servizio ricordo bene si sta ricopercorrendo qualcosa mi occorrevano dei soldi e non mi dispiaceva fare il turno di notte sono stato licenziato dopo due settimane quando mi trovarono ubriaco di trabacone il padre paresemente dei problemi di sì di embriaguità ma porca merda frate ma porca merda grazie Alexuni grazie tesoro grazie 1000 collezionabili ma ancora con sto cazzo comunque sta salvando il che è un bene quindi va bene così oh la sfera frate sono tre le sfere vero le sfere del drag erano sette però non fare rumore altrimenti ti prende eh direi proprio dei sizi ma sa proprio che mese schioppetta ero una brava persona non sapevo che fare cosa fare di me stesso oltre che bere I wanted eh volevo farti sapere che ho preso la difficile decisione di dire cesto rega porca merda è entrato è qui no non voglio fare più niente leggiamo dai voglio volevo che ho preso la difficile decisione di rescindere il tuo contratto con effetto immediato so che ne hai passate tante che hai bisogno di soldi tuttavia la sicurezza e il benessere dei miei dipendenti e dei miei clienti sono la massima priorità e non posso tollerare i comportamenti che li metta a rischio ti auguro il meglio per il tuo futuro e spero che tu prenda la situazione vabbè insomma è licenziato non voglio dio pera mi sembrava comunque stava qua dietro eh sì cioè 100% era qua dietro grazie grazie mille tesoro ma frate sta qua al cazzo sta qua al pezzo del merda non so che cazzo sia ma sta qua ma me vede mo questo se passa oh mi sa che non entra ma comunque passa ma zio però dai passa solo vicino e devo aspettare quindi che se ne faccia il giro per uscire immagino no si opera non voglio voltarmi cazzo fatti prendere per tornare invece l'alefferino eh ma non ho ancora tutte le sette sfere del drago qua no si quale nave oh mi parlate più dei navi che noi se per un cazzo non vede ma sente non mi fa prendere un cazzo qui vabbè io continuo in questo percorso che devo fa che cazzo è sto rumore che sta maniera i pringos che è capisco bella merda fratea oh siamo ritornati qua non mi può vedere ok ma eeeh allora una l'ho presa il problema è il resto io pure sento su tum tum ma da qua da qua vengo un bacio perfettamente che cos'è ma che cazzo ne so so solo che te ne mancano due e che mi hai già rotto tre quarti di cazzo con ste sfere ai miei passi fanno rumore dici ok non è grande il bosco mi sembra di capire che qui sopra ci sia una sfera non lo so mi dà quest'idea io pera qua c'è sta altra roba se io cammino così non mi sente eccolo il pezzo di merda mannaggia la merda secca di sto ragazzo di coso santissimo eh no l'hai ammazzata che dici secondo te anch'io penso che non merda oh sto campanellino era basso porco zio è una bella storia se mi piava ok proviamo di qua devo stare attenti a sti cazzi dei campanellini però mi innervosisce il fatto è la mignotta ladra della ma ecco la grotta ecco ecco questa è la seconda questa è la seconda da ieroni da ieroni da ieroni dory questa è la stanza di dory e questa è la figlia la stanza è la figlia sì la trama del gioco comunque è pesante ecco la palla what is that I feel strangely drawn to it some kind of necklace I can't make out the name those are dog tags daddy e invece buon compleanno papà spero che tu sappia che sei il miglior papà di tutto il mondo mi hai solamente tagliato la corda mentre era appesa un filo a 10.000 metri di altezza però best daddy grazie a te e alla mamma posso passare ogni giorno nel mio posto preferito in assoluto so che a volte non sei felice quando dimentico di fare i compiti cercherò di ricordarmelo più spesso prometto la mamma mi ha aiutato a fare una torta per te quando torno all'allenamento possiamo mangiarla insieme e magari possiamo anche andare insieme al lago ah ecco perché vedi si riaggancia tutto l'ha portata al lago lei si è ammalata la madre si è incazzata perché da ammalata non può lavorare comunque genitori veramente due pezzi di merda uno peggio dell'altro spero che tu possa passare una bellissima giornata a papà what have I done mi hai fatto coglione d'altro onde del resto non sembra funzionare dici sembra che funzioni questa cazzo di lucetta qua ma ha salvato sto giro non mi piace non ha salvato il fratello qui eh il giochello non ha salvato e per di più eccoci a posto perfetto grandioso finito mi dì i giochi Watson senti almeno se sto qua non entra oh no se è bella una uscita volevo solamente sporgermi un attimo credo che mi veda credo che mi veda come cazzo come cazzo come ha fatta vedermi è la moglie si oh però mi dia una medaglia e ora mi attacca il cazzo ce l'ho la sfera ce l'ho non è così punitivo a quanto pare si ricama ma mi vede come ho fatto rumore non è possibile ero guatta guatta aria cacqua sta bagascia tra l'altro non posso vedi poi rampeggia la cosa quando erica ma cazzo però senti ascolta la puttana mi insegue quindi io scappo eh vaffanculo mica posso sta qua a dieci anni più che altro devo capire dove cazzo sta grotta sto grottino porco zio ho preso un corpo non è vero ma vengono dall'altra parte devo solamente entrare nell'altro nell'ultimo buco dai guys dai regà ce la posso fa eccolo eccolo si pezzi di merda si ora ci siamo un orologio sembra costoso non sai che faccio adesso mi faccio acchiappata la troia cazzo mi frega ci metto di meno almeno no sarà misterioso all'inventario eh faccio faccio prima ma libera sto uccelletto purello guarda là che schifo stardi ma c'è bisogno di questa luce watson c'è davvero bisogno sta venendo martedessa oh my god no le ho tutte questa è l'ultima la tragedia colpisce il circo dei fratelli Nelson madre e figlia trovate morte dopo un incidente sulla corda eccoci qua undici e mezza Jasmine sempre emotional gangsta grazie mille per il prime grazie mille e benveniù il circo dei fratelli Nelson è un'istituzione molto amata nella comunità da oltre 50 anni secondo me questa si legge tipo annuncio del tre genere il circo dei fratelli Nelson un'istituzione molto amata nella comunità da oltre 50 anni si trova ad affrontare un futuro incerto dopo un tragico incidente durante le prove per il numero dell'attraversamento sulla corda che ha provocato la morte di una madre e della sua giovane figlia le vittime le vittime, Martha Thompson e la piccola Dory sono state trovate morte nel tendone dopo essere cadute da un'altezza di quasi 10 metri sebbene la causa dell'incidente sia ancora oggetto di indagine il circo dei fratelli Nelson stava già affrontando un problema i finanziari prima che si verificasse la tragedia non capisco poi perché devono parlare così cioè che cazzo di problemi hanno perché parlano così veramente sono curiosa perché parlano tutti così c'hanno questa studio poco aperto studio aperto da poco studio aperto da poco così un po' non capisco come mai ma voi sapete perché? in realtà è un fatto di cronaca perché è ammazzato i figli effettivamente con questa tonalità si scanniscono meglio le parole e prendi meno pause per leggere cioè no se ci provate a leggere in questo modo vi renderete conto che farete meno difficoltà a leggere le parole vero? cazzo è vero non ci avevo mai pensato cioè allunghi dai la cantilena ogni parola che ti dà il tempo necessario per individuare subito la parola dopo cazzo è vero provateci cioè leggi meglio senza che sbagli parole poi sbaglia uguale chiaramente però è più difficile che leggessero le frasi con le monteggiature le relative pause corrette ci metterebbero molto più tempo ah anche vedi come se vi metti 3,40 cazzo vabbè comunque stiamo dicendo niente ha ammazzato le figlie raga ufficiale cioè ha tagliato le corde e ha ammazzato le figlie altrimenti ci metti più tempo per scandire con le pause è possibile negli ultimi anni il circo aveva faticato ad attirare pubblico ed era stato costretto a tagliare i costi in varie aree tra cui stipendi degli artisti e manezione delle attrezzature l'episodio ha anche sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza degli spettacoli circense sulla necessità di adottare regolamenti più severi molti nelle comunità cominciano a chiedersi se non siano troppi rischi connessi agli spettacoli e se l'industria sta facendo abbastanza per proteggere la sicurezza comunque già ad oggi comunque io non so se il circo abbia così tanta affluenza così come era una volta non lo so perché non è che ci sto dentro quindi non ve so di mentre le indagini continuano la comunità piange la perdita di Marta e Dori e il futuro incerto del circo Nelson è un momento triste e difficile per tutti i soggetti coinvolti la direzione del circo ha promesso di fare tutto ciò che è il suo potere per scoprire cosa sia successo e assicurarsi che non accada mai più quindi ancora lui non l'hanno sgamato allora forse sia incredibile che non abbiano mai nutrito sospetti su di me avrei dovuto farmi avanti e invece ho preferito sopravvivere hai capito quindi? ecco perché ecco perché è ridotto dentro casa dove c'era moglie e figlia pieno di pasticche, pieno di alcol, pieno di schifo perché lui sta vivendo male la vita adesso perché non si è costituito e c'è rischiando, avendo paura del carcere, di non vivere più ma in realtà non sta vivendo già da ora giù ben cazzata con una biscia questa io c'è però una pia di ma tanto questa non me pia dovrei andare dall'altra parte ma sicuramente non so dove di preciso forse mi conviene farmi prendere però così mi riporta direttamente là che dite? grazie Xenotopic, grazie mille baby grazie mille per la tier 1 dos meses let's go, grazie mille boh, non lo so, mi sembra che oh a zia pera mi ha trovato ma che mi ha trovato a zia pera mi ha trovato ma al cozzio no ma mi sa che senti l'importante è che mi sa che fa culo fotti di puttanella Ecco qua È resuscitato tutto Tutta la baracca Via Fantastico È il nostro treno fantasma Forse mi condurrà fuori da questo dannato incubo Lo so La storia è molto bellina Ma se evitassero di mettere sempre qualcuno che ti insegue A caso A cazzo de cane magari Ho un brutto presentimento Tu Etsy no io che do gioca No io Sarà quasi finito Ditemi di si vi prego È angoscioso sto gioco Sarà ancora peggio Eccoci qua Eccole lì I leoni i fantasmi Allora diciamo che ora sappiamo la storia Cioè sappiamo la storia Com'è andata a finire Quindi Oh no No il gioco è tutto figo Il gioco è tutto figo Solo che che coglioni Ha gente che ti insegue E giù non mi metto un'ansia tremenda Eh non lo so Andre È un viaggio mentale Spirituale Psicologico Del padre Che sta vivendo un po' Il trauma L'ansia La Senso di colpa Chiaramente Eccoci qua Chi diventi da moglie Sai però non si Non si sa Chiaramente lui è il cattivo Perché Zack ha tagliato i fili Ciaone Però Anche la madre Non l'hanno Rappresentata in un modo positivo Devo dire Quindi boh Cos'è sta roba Questo mi sa Chi è lui Perché lui Eh vedi Questo sono io Perché lui Appunto lavorava Agli attrezzi Vedi Si sono conosciuti Perché lui Lavorava nel circo Probabilmente Poi si sono sposati Facendo un po' Il viaggio Nella sua storia Nella stessa storia Poi è nata Dory Vedi famiglia La felice Dory che guarda Che trova il circo Vedi E che impara Attenzione Lui con due pesi Che non riesce A trovare un equilibrio Forse Si sta ripercorrendo Tutta la sua vita Il circo E vedi Il circo Che è Fallito Praticamente Loro Ma arriverà lui Buonasera Mona Lisa Questo è lui Infatti Non si capisce bene Perché l'ha uccisa Sinceramente Perché non Sembra così pazzo Lui sembra Abbastanza lucido Al riguardo Cioè si rende conto Di aver fatto Una merdata Capito? Non saprei Sì è stato lui Un pochino questa E io Ma rieccoci No Sì perché poi Quella lettera Quella lettera Di assunzione Della figlia Al circo Ma Boh È un po' strana Perché ti fa capire Che forse E la moglie E la moglie pure Non era Cioè Non erano d'accordo Su questa cosa Che la figlia Facesse circo Però come è arrivato Addirittura A tagliare i fili Cioè Rischiando di ammazzarle Mi sembra una cosa Un po' strana La polizia La polizia Finalmente E te sta a caricare Frate Salvataggio La polizia Frate La camera è un disastro Che è successo? Cioè Manco si ricorda un cazzo Lui capito Il toyoti La cucina Sta finendo tutto a pezzi Il tavolino di Ikea Eh frate La merda Vabbè L'avranno L'avranno cioccato Sì Sarà la polizia Io però Una camera dei tori Mondo convenienza Se va a pezzi Mamma mia Fatto come Camera da figlia Quella è una telecamera? Perché ci sono delle telecamere In casa nostra? Chi sta guardando? Il grande fratello C'è qualcosa di non detto ancora Sono oggetti di scena E tutto un palcoscenico Chi l'ha costruito Per quale motivo? Lo zio Potrebbe essere lo zio E infatti E infatti Se si vede Che quando lui va a tagliare il filo A un certo punto Appare la figlia E dice No Dori Come Dori Non doveva esserci Dori Però comunque In ogni caso Stava comunque Ammazzare la moglie Quindi Nel senso Non lo so È possibile È possibile Anche che la moglie Fosse la stronza Col fratello La moglie del fratello Intendo Scusami La La sorella Il fratello della moglie Marta C'aveva un fratello E secondo me Loro due Stavano architettando qualcosa E lui Per cercare di fermarli In realtà Ha fatto peggio Chi farebbe male Una cosa del genere Via Prossimo Prossimo Cadavoro I don't understand Questo è qua Riechi c'è Ma sarà la polizia Regà C'è Sarà la polizia No sono delle sirene Stava stanzata la moglie Dove c'è stava Guarda Barderacca Se invece fosse tipo La Truman Show Mi sembra un po' strano Un po' Poco realistico Però Grazie Trav Grazie mille per i sei mesi Cioè nel senso Chiaramente tutto questo Non è realistico Però potrebbe essere tipo Un viaggio mentale Che se fa lui Non è niente di reale Ed è tutto nella sua testa Ma se addirittura fosse Un Truman Show Sarebbe un po' Strano Però è comunque un gioco Quindi può essere tutto Oh di nuovo da questa Puttanaccia Oh merda Oh fratele prego No Not again Ok Porte che non sembrano porte Ma che stracazzo è Sembra parte di un'enorme macchina Veramente strambo eh Un coma Etiligo No 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 Si opero però Però ad un certo punto Si vedevano Che cos'è Monsters & Co Si vedevano delle cose strane Tipo delle Tipo le I posti dove Te fanno la risonanza magnetica Quei tubi no Ma certo Te sono viste Quelle cose lì Non capisco Che cazzo fosse però Arriè che il treno Però effettivamente C'è qualcosa di non detto eh Non è finita qua La storia Mettone per mattone Questa casa di follia cadrà Sconosciuto Non è stato io Non è stato io a fare Dove di essere Rana 0-2 Uscita di casa Senza volerlo Giro Capisco che cosa Dove sia andata Ma non è che trip Mentale So già Qua sordo Forse qua sotto Mi sta rincoglionendo a stecca Sta roba Pazzesco Comunque si Però non si sa Non si sa se magari è Il Tipo la parte Nascosta nel suo cervello Si capito E' tutto ancora Plausibile Se fosse capito Nella sua testa Potrebbe essere l'inconscio Oppure no Oppure semplicemente no Soggetto 7 Cosa stavano facendo Cosa stavo facendo io qui Cioè qui cambia Completamente la trama Cioè qui cambia Completamente La trama Porta della struttura Bloccata Porta di casa Errore Circo Gran finale V3 Sembrano dei file Errore Errore durante il caricamento Della sequenza Quindi c'è stato un bug E lui è riuscito ad uscire Sto male rega Ma pazzesco Cioè E' ancora più Fuori di testa Di quello che pensassi Sto gioco Però non si capisce Che cosa sta succedendo Se quello che è successo È vero Devo Sbloccarla In qualche modo Vabbè E' pazzesco Comunque Una freccia E' veramente Tipo Truman Show A sto punto Sì Però A quale scopo Chi è sta gente È vero quello che è successo Mi fa entrare Qua Ma c'è Una fondina vuota La fondina è quella Qua non c'è Posso salire Dal pc Dici Ah La porta del sotto È stata aperta Let's go Let's go Tutto il sangue Sì Brutta storia Questa Che ci fai Qui fuori Mettila giù Oh Che sta succedendo La mia testa C'era già stato Qui Ti facevano persino Consegnare da mangiare A me sembra A me sembra A me sembra A me sembra Una pizza Pesa al supermercato E anche Di quelle De merda Direi Assunno Porto comunque Sembra un laboratorio Le medicine Questa era Dei dori Ci abbiamo giocato Noi Prima Altre facce Altro computer Rotto il computer Regà È un trip La mia spada Ma Let's Let's È vuota Non si capisce Un cazzo Ancora Quindi Semplicemente Bisogna aspettare Andare avanti E vedere Se che risposte C'è danno No Entrarà nel circo No Entra nel divanetto Dove fanno i provini Per i porno Norn Memories For the future Ricordi per il futuro Fatta Assurdo Una sorta di Azienda Mega Ipertecnologica Mi sa Un botto Di Umbrella Corporation Una cifra Più che altro Perché è abbandonata Chissà che cosa Cazzo è successo Mi sembra tipo Sai di quelle cose Futuristiche Dove Ciao Simone Futuristiche dove Tipo Si C'è come se Se mettessero In una pennetta In una memoria Digitale Diciamo La memoria umana Sapete no Di quella roba Che dicono Che in futuro Tutto Tutto quello Che fa parte Di noi Tranne il corpo Fisico Che è quello Muore Tutta la nostra Testa Tutti i nostri Pensieri La nostra Personalità Possa essere Messa E portata Nel web No Ci sono tantissimi Filme che parlano Di sta cosa qua Mi pare pure Vagamente Ghost in the shell Cioè No Non lo so Non vi sto dicendo questo Vi sto dicendo semplicemente Che cos'è che mi sembra Cioè Vedi C'è un cervello I ricordi E quindi è come se Fosse un'azienda Che si occupa Un po' futuristica Che si occupa Di questo Anche un po' sperimentale Che non è Proprio Allora qua c'è l'uscita Potrei andare Ho sbloccato La scena Ce ne sono parecchi Ce ne sono parecchi Non so che cosa Che ho sbloccato Ma Cristo santo Andiamo Che facciamo Usciamo ora No dai Ma Cadavere Che cazzo Chi era Però vedi che lui Ce l'ha in testa Lo vedi che ce l'ha in testa Sta roba lui Lui c'ha dei ricordi Un altro computer Eh vabbè fratello Li ha uccisi lui Totale Questa è aperta Ed è la stessa Identica strada Che ha fatto all'inizio Ha ammazzato tutti Ha ammazzato tutti Sì Cosa stavano facendo qui La domanda è Come cazzo è Che sono morti Un altro Ma chi ha fatto Oh merda è Lo conoscono Assurdo Cazzo È assurdo Riepino questo rapporto Di scouting Rapporto di scouting Anche sullo scrivo di fronte A casa mia c'era scritto Soggetto 07 Ma dice Liam Kennedy Io non mi chiamo così 35 anni maschio 35 anni maschio Vari lavori part time Non ha completato Gli studi Basso reddito Sessione Abitativa Solitaria Monologare A Chiletown Background Liam Kennedy Abbandonato la sua scuola Andava da 15 anni Una relazione Referente Sua genitori L'hanno costretta A rinterrompere Presso i rapporti con loro Si è ruolato all'esercito Giovane Ma è stato congettato Allora Tra la trida Spesso Tiene a gala Piccola Interazioni sociali Soggetto Una famiglia Nei amici Conduce uno stile di vita Solitario Con interazioni sociali Minime Soggetto Non ha legami Affettivi noti Soggetto Una storia Di problemi Finanziari Debiti Che donano Mancanza Motivazione Sulla base Di informazioni Raccolte L'hanno potrebbe essere Un candidato ideale Per l'esperimento Di sostituzione Della memoria Lo vedi? La vita priva Di eventi significativi Del soggetto Riduce il rischio Di residui Di memoria La sua storia Di disagio Finanziario La mancanza Di motivazioni Suggeriscono La funzione cognitiva E l'abilità fisica Del soggetto È risultato Forse Assurdo Tutto finto È possibile Che sia Sto Liam Kennelly E lui C'abbia I ricordi Di questo Madonna Che cazzo Di roba Pazzesca È Però scusami Io da qua Dovrei essere In grado Di aprire L'altra porta Perché mi ha detto Pezzi di merda Ve aghero tutti Bastardi Ve aghero tutti Messo i ricordi Di un altro uovo Sì Esatto È come se lui Adesso avesse Ottimo Tipo Un mischione Di ricordi Di quello Di prima E Di adesso Ha fatta Piccola A strage Questo Eh Frate Di armata fuoco Ancora Ancora non hai capito Che sono tutti morti Ancora Secondo me Incontra lui Ora O no Ma comunque Lui è un po' Rincoglionito Cioè lui È un po' Duro di comprendonio O sbaglio Nel senso Cosa ti devo notare Con te Ti ricordi Ma come mai Mi ricordo Eh Vabbè Se l'idea era di prendere Un coglione Ci siete riusciti Era proprio un coglione Questo Cioè È proprio rincoglionito C'hai tutto Sotto all'occhio Ancora che Se fai domande Ma Quante T'ho penita Di armata fuoco Ce ne sono altri Oh Soggetto 34 Costante Sono l'unico Vivo Sono l'unico Vivo Potenziale Fuga Rilevata Il problema È che ce ne sono Con firma Sono tutti morti Forse no Non sembra che sia messo bene Deceduto 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 Tutti deceduti Solo io so Viva Sì Vabbè Ok Capisco Però Il dove cazzo Di Wandangi E il pc Oh Shit Cazzo L'aveva visto Ci risiamo Soggetto Bradley Scott Liam Kennedy Ciclo 87 Sono 16 soggetti Soggetti in tutti i sensi però Morgan Mills Elissa Ab uscita Ancora niente Liam Kennedy Soggetto 7 però è lui Capito Mary Fa volare sta roba E posso usare il computer Se fosse il mio computer Eridipendente Attualmente in isolamento Per favore Mantenete la calma E continuate a lavorare Normalmente Non appena l'emergenza Era risolta Il isolamento Verrà Revolto Voglio solo Fai sapere Che ho appena finito Di aggiornare Alcuni dati Su casa 2 Ho scoperto Che Anna Non era in postazione A persino Ha lasciato la sua Fottuta pistola Sulla scrivania Penso che si stesse Prendendo un caffè O qualcosa Che generale Di lo solo sa Se uno di questi oggetti Drogati Uscisse per qualche motivo E trovasse una fottuta pistola Devi assolutamente Parlarle Porca troia Ehi Pete Lo so bene Di averte già chiesto Ma per favore Potresti occuparti Del mio turno E consegnare la pizza Questo mese Odio dover entrare A contatto diretto Con i soggetti E detesto Compilare I moduli Susseguenti Coprirò Qualsiasi altro In carico Tu voglia Per quest'anno Cioè loro Entravano a consegnare La pizza Avevano Per questo Aveva la La Il vestito Del La divisa Della pizza Avevano Delle pizze Lì Surgelate Che le consegnavano Loro Assurdo C'è scritta Roba diversa Al soggetto 7 Ma va Ma c'ha Il soggetto Sembra ricordare Dei litigi Con Marta È lui In questo ciclo La svolta Il suo Poi venire Oh Cazzo La svolta Nel subconscio È iniziata Prima del previsto Le nuove stanze Della memoria Sembrano aver avuto Effetto L'effetto desiderato Il soggetto Ha notato Del disordine La camera da letto La percezione Del soggetto Sembra cambiare E levare lentamente Ancora Le sue indicazioni Del residui di memoria La prima svolta Ocettiva Sembra Comunque Sembra Essere In bagno Ci saranno Alteriore Indagini Ma Non è stato Possibile O servire Il soggetto Ricerca Due minuti Mentre Perquisiva La stanza Di Marta Era tutto fake Raga Sono degli esperimenti Loro Sono dei cazzo Di esperimenti Loro qua dentro Raga È un po' contorto Raga Ma semplicemente Sembra che Questi Cioè Io Sia Semplicemente Un esperimento E che Letteralmente Giocano Con la memoria Della gente Cercano Dei soggetti Particolarmente Predisposti A questa pratica Gente che Non ha Vissuto una vita Particolarmente piena Che non ha Grandi affetti Insomma Che è un po' isolato Nella vita Lo prendono E lo utilizzano Per fare degli esperimenti Di memoria Li drogano Però sostanzialmente E Però non si capisce bene Tutto 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 What Attende In segreto Assurdo Veramente Assurdo Il buio Nel mare Sono tutte Storie Diverse Il circo Eccolo Questo è il mio Vediamo questo Prima Lasciati la guerra Alle spalle No Riga È veramente Morte nel circo Madonna mia Allucinante Sono quattro scenari Diversi Dove fanno Entrare Questa gente Manipolandola Nei ricordi Nella memoria Assurdo Letteralmente Assurdo Che smeralda C'è tutta roba Costruita Tutta roba Costruita Bello Il suo gioco Dai Cazzo Fighissimo Non mi aspettavo Una svolta del genere Sincera Zero Mi sembrava Il classico gioco È tutta una messa in scena Martha e Dory Non sono Reali Possono Inserire Tutti questi Falsi ricordi Nella mente Vedi Non posso crederci Questo c'è Andrà la mia testa Chiaramente C'è la testa Che gli esplode Minchia L'oggetto Nella preceditura La preceditura È andata a buon fine I valori misurati Rientrano Tutti negli intervalli Previsti I ricordi creati Sono stati esaminati E approvati I vecchi ricordi Sono stati archiviati Memoria impiantata Uccisione traumatica Della famiglia Ciclo 01 Hanno preso Questo Cazzo De Liam Credo che il soggetto Sia un reale Una reale persona Che si chiama Liam Kennelly E gli hanno impiantato Questa roba qui Per sperimentare Questa roba qua Questa nuova Sai Tecnologia Di Togliere E mettere Memoria Nelle persone Il soggetto Si sveglia E appare disorientato Sembra incapace Di ricordare Qualsiasi informazione Della sua vita precedente Il soggetto viene Introdotto Nella casa Alla casa artificiale Modellata A partire dalla sua Casa di famiglia Inventata Risulta in grado Di riconoscere Identificare quella Casa come sua Tuttavia Se no non capire Perché la casa Appare nello stato corrente Il soggetto Trova una fotografia Di sua moglie E sua figlia Marta e Doria In grado di identificare Le due come suoi familiari E di ricordare Delle informazioni Di base su di loro Il soggetto Sembra incapace Di ricordare Le parti traumatiche Della sua memoria Impiantata Il soggetto cerca Sua moglie E sua figlia in casa Il subconscio Nel soggetto Sembra alterare Radicalmente La sua percezione Per adattarsi Ai ricordi Impiantati Senza le parti traumatiche Conclusione iniziale Le procedure di sostituzione Della memoria È riuscita a impiantare Ricordi artificiali Nella memoria Del soggetto Ulteriori osservazioni Sembrano indicare La soppressione Di parte della memoria Impiantata Ma nessun segno Di resistenza Di vecchi ricordi La percezione Del soggetto Si è alterata Per sostenere La soppressione Di quei ricordi Era tutto finto Era una storia finta Lui non ha ucciso Le mogli Le mogli Non ha ucciso La moglie e la figlia Non ha ucciso nessuno È una Storia artificiale Le mogli Una storia artificiale Per testare Questo tipo di esperienza Nella mente Di una persona Come lavora La mente Probabilmente Per elaborare i traumi È un test Un esperimento Ho aperto tutto Perca troia Dai Assurdo Questa è una bella domanda Hanno trovato questo tizio Non si sa come Non si sa come L'hanno trovato È un'organizzazione Probabilmente importante Che ne so Sai di queste robe Tipo l'Umbrella Corporation No? Grazie Shwake5 Grazie per il Prime E niente 0309 Che cazzo è Rega? Si può aprire Restricted area Eh Tocca fa Tocca andare Voglio scoprire Che cazzo è successo Salvataggio Caricatore Caricatore della pistola Assurdo Devo trovare la sua vera memoria Sicuramente qualcosa da facce sarà Rega Qualcosa da facce sarà Perché a sto punto Vogliamo sapere Che cosa cazzo è successo Credo di averle già viste Vedi sono Stanzette Forse tenevano prigioniere Delle persone No Oh My head My head Oh 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 Merda Liam è la vera Eccoci qua Liam è la vera persona Walter È un personaggio fittizio Di questa storia Che hanno inventato E che La memoria Che hanno impiantato Su Liam È di questo Walter In teoria Di casa Kenley Liam Kenley Eccolo È lui Se di nuovo Ritato per l'affitto Se non paghi Entro la fine della settimana Farei meglio A fare le valigie È la tua ultima possibilità Questo è lui Walter è il corpo Ma sei sicuro No Liam lo chiama Liam è il soggetto Walter è È la storia di lui Che ha ammassato le figlie In teoria Questi sono i ricordi Di Liam L'ho trovato ieri Di fronte alla mia porta Una scatoletta Sei in grado di trovarci Mille dollari Per tutti i partecipanti Non sono sicuro Se è una sorta di scritto Ma cavolo Quei soldi Mi servirebbero E come Vedi Sono dei disperati È tipo Come si chiama Dai Quella roba coreana A parte tipo Una escape room Ma tipo Dai coso Come si chiama Quella Squid game Esatto È tipo squid game Vanno dai poveracci Disperati Che sanno Che farebbero Qualsiasi cosa Per avere due spicci Vedono un sacco Di soldi E ci provano È una specie Di scatola puzzle Non dovrebbe essere Troppo difficile Oh merda E ora che cazzo Devo mettere Sto facendo a caso Scusa Non ho più Pari idea Di che cazzo Deba fare Ho diventato di finirlo Ho diventato di finirlo Hai aggiunto batteria Nell'inventario Non so che cazzo Mi serva Ma Ehi C'è l'indizio Guarda il biglietto Sì Can you Find us Dollari Per ogni partecipante Facciamo la foto Facciamo la foto Sennò Magari mi serve Vediamo Vediamo No no ma rega Ma è difficilissimo Dovrei farlo Dovrei farlo Bisogno di qualcosa Di simile Una chiave Eccolo nervone Ho trovato il gioco del secolo Madonna no Sì ti devi giocare Quello che mi dicevi Che l'avevi preso pure tu Penso Mi è preso uno dei No uno Penso il jumpscare Più brutto della storia Ho Cioè Ufficialmente sentito Un dolore al petto E pensavo di morire Il gioco Quello che mi dicevi L'ho preso pure io Questo gioco deve essere figo Nella stanza Qualcosa per aprire Sì Un cazzo Oh no Terribile Dura un cazzo Dura 30 minuti Però te giuro Eh Adatto domani Mi metto su youtube Tranquille Tranquille rega Sei un bravo ragazzo Ma non posso vivere Una persona come te Pensavo in qualche modo Avrebbe funzionato Non mi sbagliava Si può entrare Sara Bisogna trovare una chiave Rega Madonna sto gioco È veramente Questo pure è bello Questo è fighissimo Uova appena fatte Dove trovare una sorta di chiave La pizza Sono seriamente in difficoltà Per quanto riguarda Il cubo di Kubrick Qua Veramente in difficoltà La chiave te la dai il giochetto Vai 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 Posso Scrivimelo Dici la chiave Me la dai il giochetto Ma che cazzo Ne so Posso chiedere L'aiuto dal pubblico Per favore Non sto capendo In quello dell'orologio Ce fa un cazzo Se questo è un poveraccio Sta tutto nel cubo Ma io non vedo un cazzo franco Però questo è il problema Puzzle Cubo Gozzi Mozzi Lo giochetto Lo giochino sbaglio Lo porto Sì sì questo è il lunghino In teoria dovrebbe essere quasi finito È bloccato Ma questo minchio qua no Scusami Ho fatto la foto Ho fatto la foto Ah Sì vabbè La foto del mio modem Perché mi ricordo mai Cazzo di pin Allora Nel cubo dico Madonna è fastidio Forse Quel cartoncino Bloccato Lo devi sbloccare Madonna se mi ridice Seam stuck Ti giuro Spacco tutto Ti pensi di qualcosa di piatto Il tuo culo forse Potresti provare Oh C'è una strana Che mi è nascosta dentro Zio però io Queste cose Mi nervosisco facile Quindi ritorniamo qui Ok Una pila E ci ho messo Le batteries Un'altra pila Oh mio dio Dove cazzo Da più a sta pila di merda Ora Ma lo zio Treno Che sei Che palle Triangolo a tre lati Quadrato quattro Grazie 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 a questa formazione Una targhetta È Liam Perché lui è Tutto il letto Puoi guardare Magari c'era nel forno Una pila Una pila Non so Ma guarda No point in going out Ce n'è una De batteria Qua c'è una De De Non è un accendino Sembra una batteria Ma non lo è L'armadietto Quale armadietto Frate Quale Una pila L'avevo trovata Zio Perino Dal telecomando Pure io Le prendo sempre Attenzione Un'altra batteria Un'altra batteria E te serve questo Fede mignò Forza metti ste batterie di merda qua Muoviti E fammi vedere Pezzo di me Non funziona ancora Franco Devo mettere qualcosa Ma non ci devo mettere il foglietto di merda Forse Una robiglia Proietta Che cazzo proietta Che proietta Non me lo fa mettere No no Qui ci vuole un codice Ben chiaro Perché Così non si può fare Cazzo guardo su Franco Se devo spegnere la luce Vabbè zio pepe però Mannaggia la mignotta Oh mio dio Sei che dice Simstack Vi giuro brucio il computer Se sotto ci metti il biglietto Ma quale biglietto Non me lo fa prendere il biglietto Non me lo fa prendere Le scritte sul foglio rosso Le ho fotografate Quindi ce l'ho qua Can find Gats Mazz Hai un biglietto No Non ce l'ho Cioè ce l'ho Ma è questo Non lo posso prendere però Non è Non è Mi metti sto biglietto Di qua dentro Per favore Gira le manopole sopra Non so c'è niente Sto incazzando eh È tutto nella scala Ho capito ragazzi Ma non li trovo Per dare fuoco al computer Avevamo capito questo Sì che ci mette qualcosa qua dentro Ogni lato del cubo ci sono i simboli in alto e in basso In alto e in basso Questo Questo Tre Tre o Oddio aspetta Hai ragione me sa Non c'è un cazzo però Triangolo Cosa Che cazzo V Per vendetta Ok Ma ne mancano 10 milioni Questo è questo Il 2 c'è Cioè sto capendo Vedi il 3 Qua c'è il cerchio Vedi 3 sopra cerchio Questo che cos'è però La 5 Con Pitagora Qua Riprendi la chiavetta Non me la fa prendere la chiavetta Seem stuck Non me la fa prendere il cacciavite La facciata con i 4 pallini bianchi Si apre Devi sollevare dove c'è la mezza luna Ah sì E invece Seem stuck Seem stuck Fatta una affanculo Io morirei comunque Io ne posso fare Skip room 2 Che vuol dire V Bello 2 0 Team stuck Vabbè ci metto un po' Ma poi vado 4 quadrato 4 quadrato 4 quadrato Incredibile 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 ah ok che carino vedi non pensavo proprio doverlo fare così ma manca un scusami eh come ho muovo quest'altro sopra ci stanno solo due levette fratello sim stock no ah guardi che uno sta fermo dici io penso che sim stock sta suonando deve essere un indizio per true street aspetta è proprio indietro all'angolo dovrebbe essere semplice da trovare se è semplice come sto cazzo de cubo stanno a freschi proprio oh signori dio ma nata n'affanculo il biglietto d'oro ma va a cagare va è proprio qui dietro l'immagine di dovere andare a cercare qualche altro indizio ma cosa sto facendo ma indizio di che ma chi cazzo se ne frega dai vai a morire siamo a freschi stiamo what the fuck questa merda l'abbiamo vista invece si era un po' mischiato il ricordo perché vi ricordate che tra una roba e l'altra vedevamo questo esatto a sdrubare gli altri ending e mo li fai quali ending? era il mio the ending è vero la casa alle scale c'hai ragione dio perone ma guardate vive in un monologale a chinatown dovevamo pensarci dovreste andare a cercare un lavoro cosa sto facendo ovviamente è solo l'ennesima truffa è la lavatrice la lavatrice dio merdo comunque è un film sto gioco assurdo è veramente bello è un telefono da squilla ma cazzo se entra in sto posto zio treno e ora liam? ma che cazzo devo chiamare ma può essere tutta veramente una diatriba dial glassidra glassidra sette due no corona grazie gioino 68 mesi zii grazie quattro no non è questo c'è però e che mignotta dessa troia maledetta da bassoburgo otto allora sette otto manca la corona uno sette uno otto sette otto easy ok questo è slowly getting interesting tu ma è sad tu non mi hai scritto tu non hai sbagliato wow ed eccoci qua un piccolo locale un piccolo locale tipo di quelli dove andava Rocco a Parigi c'è un festino Parigi in senfama e chi ha infamato ecco come hanno catturato l'hanno ma ti viene in mente che magari ci stanno in galerie no una cosa così non cioè ti senti sicuro eh che delle camere sì sì è bello mi piace già mi piace sono tutti finti sti cosi guarda e fai rum e pera frate il cube cazzo è vero può degradere basta dobbiamo andare a morire aspetta c'è della musichetta comunque oddio mi scusi mi faccia passare per favore ma come cazzo mannaggia il tecno vikingo guarda che giochetto che si fa nei cessi o se tromba o se se pippa cazzo vero eccoci qua uno due tre quattro cinque sei è qui esattamente benvenuto a norm sei pregato di entrare nella cella tre dove cazzo sta cella tre ecco qua siamo abbioccati noi no 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 altre enigma grazie Mattia Riti grazie desolo grazie mille per il nostro hub just last one test tu madre è un last one ok tua madre no ma piccolo mollo ma dove vuoi andare stai andando in mire piccolo mollo vuoi uscire sono rintronato io morire che madonna è grazie a fa è arrivato un hype train che madonna è sta roba ma che è ma vedi che sei tutto un paranoiato grazie a fa oddio dimmi che non devo risolvere oh si oh si cazzo si il mio nome è Liam Kennedy quella era la mia vita era la tua vita di merda quindi la vera uscita di qua niente è vero si dai ma vedrete dal cazzo che mi hai rotto l'unione adesso gioco questi enigmi bello però bel gioco effettivamente no come adesso vai a dormire che è finita il gioco dai guardata la fine frate guardata la fine sore siamo finiti eh siamo finiti posso dizio vero eh le vedi queste qua che vi dicevo che sembrano delle cose delle risonanze magnetiche devo scoprire ma che cazzo scopri vaffanculo vede a sto posto no scopri scopre lui penso non ci sia la corrente no raga mi sa che qua oh zio date prego questo sembra brutto questo sembra brutto questo sembra brutto questo è oisi ieri alien isolation regà non lo porto mai nella vita l'ho già giocato no 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 assolutamente no ah oh e guardali sti cazzo dei cosi di merda sti batterie della figa della figa di tu ma non ce n'è uno che funziona oh ah frate non ce ne manco mi fa più vedere buggato finito il famoso crampetto ardito no stasera cambia oh orco 2 si allora si vedi era un mio errore questo sembra funzionare perfetto che ve stava a di l'ho pure scordata vi piace un corpo ma no aspetta sta dell'argine l'odore mi stava a finire di raccontare una cosa con sti cazzo dei alert mannaggia la mignotta mi avete fatto dimenticare eh no fra me dicono che mancano ora poi stavo lessa ieri eh stava a delay la storia ma non mi ricordo ok abbiamo trovato il generatore ah meno male siamo tolti dal cazzo sto rosso che mi stava a far malare il cervello vedi questa è una stanza probabilmente dove gli hanno rincoglioni intronato il cervello l'hanno messo tutta la memoria dentro capito chiusa sembra che ti serve una testa identificata per riuscire da qua mondo cazzo il tablet l'hai visto quale tablet da siope questa là pc io ho toccato lì non so cioè guarda là guardate le stanze cioè è assurdo ragazzi questo gioco è assurdo il tablet ma il tablet io l'ho già perché dovrei devo solo andarmene da qua vabbè devi staccarmi però frate dove adesso sta sto tablet dovrebbe star pc e invece non c'è stancazzo fra locked e dove sta sto pc non sta qua frate sta qua sta qua sì sì bello gandix posta calcolatrice si ma non c'è stancazzo frate in qualche modo comunque qua dentro è successo un danno un fattaccio credo che ad un certo punto sia imboccato lui apri la posta se vedi finché funzioni vogliamo fare i testi adesso abbiamo già procurato il soggetto devo leggere la posta mi sono già rotta il cazzo non mi dà un cazzo la posta forse devo entrare qua dentro frate oh ah no è solamente un stracazzo di di cubo infernale vicino al tablet ma quale tablet sì quel coso che hai toccato ci deve essere una card identificativa qua dentro da qualche parte dici che sta nella scrivania perché senza card non si può usci controlliamo ste cazzo le scrivanie deve essere qua da qualche parte buonasera bisellino allora vediamo un po' morte degli ultimi soggetti soggetto 2 3 emorragia celebrare infatti a lui fa male la testa ricomparsa dei vecchi ricordi forti mal di testa esattamente lui vessuto celebrare infiammato rischi di nell'infiantare la memoria volpe delle nevi grazie tesoro grazie a pisellino grazie per il sabino pisellino è rimbarato il proprio blocco dei ricordi originali cazzo dice deve usare la macchina per qualcosa che non va sta per ricordare qualcosa è la testa probabilmente mi devo risistemare la memoria perché se no moro cioè stecchito comunque qui dentro non c'è un cazzo di nessuno quindi non so cosa aspettarmi devi usare la macchina mo vediamo un po' non credi che ti serviranno si? merda la pistola con cui ha ucciso lui tutte quelle persone c'è capito questo tizio Liam in realtà si chiama Liam cioè ha vissuto tutto questo trauma pensando che fosse vero ovviamente ma la mia domanda è quando è che lui ha sparato a tutta questa gente cioè che significa quando l'ha sparata quando l'ha ammazzato sta gente lo dirà lo farà capire no immagino però la mia domanda è questa cioè lui sta ritornando ritornando di nuovo qua quindi vuol dire che l'ha già fatto ed è stato rinchiuso di nuovo mi sembra strano qualcosa non torna devo capire come fare a utilizzare questa macchina merda che password c'è ora un hard disk eh stranello vediamo un po' dove la troverò sta password e l'hard disk sta sul biglietto quale biglietto aspetta che mi brude il tallone vicino alla pistola c'era il documento guarda bene l'hard disk è cliccabile oh ok serve una password e non è che lo devo mettere lo so che non lo devo mettere là l'ho appena tolto da là però sto smanettando un posto ho cercato di capire lì vicino no vicino al muro di hard disk ce ne sta uno ma sempre sopra vediamo un po' mi brude in piede vi capite mai che mi brude in piede madonna mi fa morire veramente mi fa scifare il cervello scusami mando cazzo dovrebbe ah eccolo zio p oddio mo qual era quello nuovo che devo vedere sì ma qua mi serve il codice regà ah nota verdandi password verdandi che cazzo vuol dire il giallo devo mettere verdandi c'è la password è quella verdandi va vero che cazzo è una stronzata verdandi buonasera fega scusami a memoria o se rito ma regà è tutto giusto non è che mi metta la memoria del criceto dentro e ora oh mio dio devo impostare questi moduli mannaggia i mignotti però dove devo impostare questi moduli forse è qua io posso fare qualcosa qua dentro con lo cervello dall'altra parte vediamo vedemmi comunque qua c'era la storia di Liam è vero vogliamo leggere la storia soggetto Liam Kenley dottor Ian Keller invece è il revisore cicli attuali 50 cicli attuali 50 memoria impiantata morte al circo cioè gli hanno impiantato il trauma della moglie di della moglie della morte di moglie e figlia Marianne l'autorità ha finora superato tutte le nostre aspettative la velocità con cui si osservano residui di memoria è elevata che spiega l'alto numero di cicli ma la sua resilienza e i loro effetti laterali non ha precedenti in genere i nostri soggetti durano meno di 8 ore dopo che si sono verificati i residui di memoria che ci ha costretto ad aumentare notevolmente i nostri sforzi in campo di osservazione e sicurezza e nonostante questo il nostro tasso di filamento per la maggior parte dei soggetti è ancora piuttosto alto il soggetto 7 soffre degli stessi effetti collaterali come mal di testa e vertigini ma le sue condizioni progrediscono molto più lentamente in diversi casi abbiamo notato il verificarsi di un residuo di memoria solo dopo aver rivisto i filmati gli effetti collaterali erano così lievi che ci sono voluti giorni che diventassero evidenti crediamo che alla fine sopraggiungerà come l'effetto fatale ma questa maggiore resilienza lo rende davvero un soggetto molto speciale comunque sanno che vivrà mi hanno fatto vivere 50 volte morte al circo dici? cioè allucinante regà un vero e proprio massacro mica ma ha fatto bene ammazzarli tutti ma è pure poco zio treno che bastardi figli di puttana che bastardi figli di puttana regà altro che apri quei cosi che cosi? oh ma che cazzo ci devo fare? gira dei server qua? oh video porco due mi sento nager mi sento nager frate ci siamo watson open no ci non mi devi morire adesso ma io ho buttato ma il culo devi stare calmo devi stare calmo non mi devi morire devi stare calmo ti prego devi stare molto calmo ok set set oh Ammiaggia la puttana Non ti sei stracelare lo cervello Ti prego Ti prego lo cervello ancora Bloccato Bloccato questo Mi manca Per tre Che testo sto robo Forse devo arrivare fino a qua Che cazzo Penso di dovermi sbrigare Frate devi stare calmo però Perché io non so Veramente non Non c'ho Cinque Madonna ragazza Ma risolvesti enigmi Veramente porco due Veramente porco due Posso dire porco due Che cazzo devo fare Ok Ho capito ora Ma fa delle piccole scureggette Ok Questo mi faccio a capirlo Ok fratello Va bene Draghi Veri draghi Cazzo Fai che questa funzioni Esattamente a cazzo Ma Sto apposo È un horror Sì Senti ma mi mori Oh signoro Tutto aperto Vado Scappo Ti prego Sin te fai spallare il cervello proprio adesso Non ora Non ora fratello Non ora Vuoi tornare a vivere una vita normale Ti prego Avvio processo Sì tutto 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 Vai 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 Go 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 Supongo che non avrei niente da perdere Massimo ma che cazzo se ne frega Mannassera a fa' Culla È questa la macchina Mamma mia Veramente Non oso immaginare che finale ci daranno Guarda Devo avviare qualcosa Dai Eliam Go 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 Chissà che cazzo Su memoria Siamo piantati Guarda Oddio non guardate Che vi cambia la memoria Vi cambia la memoria Non guardate Non guardate Ma non lo so Oh Gesù Questo è l'inizio Io guardo Voglio cambiare la memoria Da qua siamo partiti all'inizio Vi ricordate che partiva così? Ciao Sgri Mi dispiace tanto Marta e Dori Forse non siete reali Ma io sì Non so il perché Ma voglio indietro la mia vita Sì Lui è riconvento Devena vita Oddio mio Che cazzo Ciao ragazzuoli Ben arrivati Sto giocando il finale Di questo gioco Quindi sono abbastanza Focused Sono comunque che ansia Che strano So di avere appena Rimosto la memoria A fasulle Ma non riesco a ricordarle E ora che faccio Ho comunque ucciso Tutte queste persone Eh sì Ma esatto sì Cioè chissà Che cazzo Succede Ora Che gioco Ragazzi Comunque Che gioco Assurdo Che gioco Assurdo Un film Ci dovrebbero fare Su sta roba Davvero Eh si sono spente Le luci Infatti Boh vabbè Eh Legittima difesa Boh Fino alla certa Avrei Riuscirà ad uscire Riusciranno a sopravvivere I nostri eroi Cittimo Genocidio Chiude così Non è che va Adesso sto correndo Un po' Ah già Esce a Chinatown Perché è dove abitava lui Voglio solo Andarmene da qui E sperare che smettano Di rompermi le palle Probabilmente chiedere troppo Ma non gliela farò passare liscia L'hai già ammazzati tutti Non so cosa tu voglia fare Mio caro Liam Scusa Qua macchia il cervello Scusa Che cazzo Significa Guardiamo gli altri finali Su YouTube Oh Allora Il primo finale È quello Guarda quanti cazzo Dei finali c'è stanno Ma stai scherzando Cinque finali E qui che cosa fa Di diverso Cioè Non fa in tempo e more Dai C'è schiatta Non male Killing headache Ending Ok Escaped ending The imprinting disc Ah un altro disco forse Cioè Il secondo si lascia Questo è il peggiore proprio Il primo È quello Good ending Diciamo Il secondo Si lascia schiattato La barella Good life disc No Qua mette L'altro disco It's all over Regardless I just Want to experience Something nice Just one Happy moment Già portato Arrid The Mortarassist 78 volte Ciao Giulia E qui C'è Cioè Si impianta Dei memori Dei memori Dei ricordi Porco tu No beh Questo è il migliore Questo è il migliore Si comunque Non ti dice Come mai Hanno ammazzato Ammazzato tutti No Oh mio dio Ricomincia tutto da capo Mi voglio ammazzare Io questo È il peggiore No Te prego Qua ricomincia tutto da capo No Malissimo Mamma mia Malissimo Orco No Oddio Quero questo è figo Effettivamente Ammazzato